Come sempre scrivetele nella chat e dopo Antonio che fa il moderatore farà un attimo l'aggregatore delle informazioni e la moderazione. Buon lavoro, Luciano poi quando devi cambiare le slide me lo dici che così facciamo andare avanti la presentazione. Grazie di cuore davvero Jacindor. Ok, allora due parole di introduzione. Sono Antonio Costantini, ambito Valseriana. In prima battuta porto i saluti di Gian Battista Brioschi, presidente del distretto Bergamo che per un impegno in regione non riesce a essere qui oggi. Voi sapete che siamo nell'ambito della formazione organizzata dagli uffici di piano sotto il cappello del Consiglio di rappresentanza dei sindaci con la collaborazione dei soggetti del terzo settore, la Fondazione Comunità Bergamasca e ATS. Ora si tratta di un percorso di avvicinamento ai piani di zona rispetto al quale abbiamo già avuto alcuni incontri di visione molto interessanti e partecipati. questo è il secondo ciclo nel quale ci troviamo qui oggi. Il primo incontro settimana scorsa è stato col professor Brandini e i suoi collaboratori dell'Alma Mater di Bologna che hanno fatto un ragionamento sulla governance rispetto ad un approccio ai piani di zona. Oggi abbiamo con noi il professor Luciano Gallo che ci dirà due parole su di sé e sulla propria esperienza. Io ho avuto modo di collaborare all'organizzazione di questo modulo avendo potuto conoscere il professor Brandini e l'avvocato Gallo e quindi potendo apprezzare molto tutto il contributo che secondo me loro possono dare al nostro lavoro. Il tema è la coprogrammazione, la coprogettazione e l'amministrazione condivisa in una logica di sistema, quindi rispetto agli strumenti ma anche ampia rispetto all'approccio che è un po' il filo conduttore che vogliamo avere dentro questi incontri di progettazione e che ci aiuterà a stare sempre di più in una logica di collaborazione e non competizione prioritariamente fra i soggetti pubblici e il terzo settore. È una formazione rivolta ad amministratori, operatori sociali e funzionari e credo che in particolare l'incontro di oggi e quello di settimana prossima sempre con l'avvocato Gallo saranno molto utili e interessanti in questo senso. Mi taccio e molto volentieri Luciano ti lascio fare. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, spero mi sentiate e mi vediate. Intanto volevo ringraziare Antonio Costantino in realtà che sta facendo un po' un'apertura al futuro perché è tutto da vedere se sarà utile, interessante e chiaro il mio intervento di oggi e che opzionerà eventualmente la presentezza del secondo intervento. Quindi io parto su un'apertura di fiducia ma questa fiducia la dovremo meritare. Quindi io proverò a mettercela tutti. Vi faccio sinceramente i complimenti rispetto all'organizzazione dell'intero percorso perché è un tema di grandissima attualità e due, l'originale è stata la metodologia dell'intero impianto al momento non diffusissimo in Italia. Devo dire che sono stato coinvolto in un primo percorso di ragionamento sul rapporto tra coprogrammazione e piani di zona nelle Marche, Regione, Università, Mondo del Terzo Settore e Anci Marche. Quindi un percorso analogo più generale, laboratoriale, come avete avuto, se avete avuto modo di vedere, lo stiamo completando con Anci Lombardia, Forum e CSV. Sono molto contento perché siamo dentro all'attualità. Telegrafica presentazione perché non amo presentarmi. Io sono stato un libero professionista fino a un anno fa, sempre accanto alle pubbliche amministrazioni del Terzo Settore, dal primo settembre 2020, sono il referente delle materie innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici, innovazione sociale e diritto del Terzo Settore di Anci Emilia Romagna. Ma ci tengo moltissimo a dire che in realtà Anci Emilia Romagna e Anci Lombardia hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione che va anche oltre la materia del welfare e insieme stiamo facendo molte cose, molte altre ne faremo. Quindi se mi permettete mi vorrei sentire anche un po' dentro la continuità di questo rapporto che c'è tra le due Anci regionali e quindi immodestamente mi vorrei anche sentire parte del sistema dei comuni Lombardi, anche perché ovviamente siamo emanazione poi anche del mondo dei comuni, della nostra casa madre, come la chiamo I Anci nazionale, con la quale collaboro e dalla quale ho avuto il privilegio di essere stato designato nel gruppo ministeriale che ha portato poi alle linee guida ministerali sul rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo Settore, sullo quale avremo modo di entrare un po' più nel dettaglio. Io ho considerato il periodo, ho considerato il caldo, ho considerato oramai la difficoltà di seguire i webinar che devo dire sono una fatica per chi partecipa, rivedo anche volti che hanno preso parte ad altri percorsi, li saluto affettuosamente. Devo dire che con Antonio abbiamo deciso di provare a rendere dialogiche queste due giornate. Intanto con una presentazione molto agile, ringrazio davvero l'angelo custode che oggi mi aiuterà nella presentazione perché poi la telematica è anche alle avversioni esterne e quindi le domineremo. Ma vorrei soprattutto poi aprire invece una parte di primo dialogo e ragionamento molto costruttivo tra di noi nella giornata odierna, quindi provarci a dare anche un'ora, tre quarti d'ora almeno, per prepararci poi Antonio alla seconda giornata in cui proveremo davvero a fare gli affondi in maniera molto pratica con le linee guida ministeriali in testa e con ovviamente da parte mia conosciute le linee guida regionali per l'elaborazione dei piani di zona per entrare dentro quel tema che ancora oggi non è molto definito del rapporto tra l'istituto della coprogrammazione e per esempio la pianificazione sociale di zona. Quindi non vi chiedo l'entusiasmo ma se siete d'accordo datemi un cenno che come organizzazione può andare bene perché queste occasioni, ringrazio Gian Antonio Farenotti che è stato subito pronto a darmi un ok, quasi liberatorio per la verità della serie, mamma mia oggi ci tocca anche un giurista. Dicevo se siamo d'accordo queste occasioni servono davvero a farci fare delle domande. Ovviamente la presentazione ripeto è una presentazione molto agile e che è simpatico che lo vedremo alla fine, simpatico come anche l'efficiente, proviamo a dirlo alla fine. Presentazione agile su poche parole chiave e con pezzi di ragionamento. Il titolo della prima è il principio di sussidiarietà orizzontale perché se ho detto ad Antonio nella lunga preparazione davvero con tutti gli organizzatori di questo percorso noi dobbiamo fugare, vedo almeno due grandi rischi, due grandi rischi e che sono rischi grandi. Il primo è di entrare dentro alcuni istituti per esempio coprogrammazione e coprogettazione non vivendoli e non incastrandoli all'interno di una visione di sistema, cioè questi strumenti come parte di un puzzle più complessivo. Questo perché è un rischio grande? Perché ci porta al secondo rischio che è un rischio specifico che si occupa di gare, potrebbe dire che potremmo fare un duvri, un documento unico delle interferenze su questi istituti, è un rischio particolarmente grave che io non vorrei correre e quindi non voglio essere complice di vivere questi strumenti in un modo anche non autentico e per essere chiari dopo la coprogrammazione magari capiamo che ci può far comoda una coprogettazione in realtà per non fare una gara d'appalto. Coltiviamo gli strumenti del codice del terzo settore perché quasi quasi non vogliamo stare nel rigido campo della disciplina dei contratti pubblici. Io lo dico subito senza se e senza ma, ripendo, avendo anche la responsabilità della martire dei contratti pubblici, che non è il tema di oggi ma noi dobbiamo mettere gli istituti della cosiddetta amministrazione condivisa all'interno di un quadro più complessivo nel quale a dobbiamo conoscere tutti gli strumenti a disposizione, b li dobbiamo utilizzare in modo appropriato in relazione alle finalità. Quindi non abbiuriamo in partenza appalte e concessioni, non è il tema di oggi ovviamente Antonio di questo percorso e di tutti i nostri 60 valorosi eroi e spero non martiri. Un'altra tappa però dovrebbe essere come utilizzare al meglio gli strumenti degli appalti e delle concessioni. Perché io lo dico subito, voglio combattere una narrazione separatista, verticale, di questi strumenti che si contrappongono agli altri. Noi dobbiamo invece conoscere tutti gli strumenti e nel corso di queste due giornate proverò anche a fare qualche proposta di integrazione non solo tra gli strumenti previsti dal codice del terzo settore ma addirittura vi proporrò anche di vedere insieme a me possibili interazioni tra gli strumenti del codice del terzo settore e gli strumenti del codice dei contratti pubblici. Uso uno slogan per chiudere questa primissima, primissima, noiosissima premessa quasi a mo' di pistolotto ma per me fondamentale. L'Unione Europea attraverso le due direttive appalte e concessioni che apre tra l'altro al mondo del sociale, gare riservate, articolo 143, clausole sociali, offerte economicamente più vantaggiosa, ci dice che gli appalte e le concessioni sono anche strumenti strategici per raggiungere altre finalità. Vi invito a ricordare, a richiamare l'articolo 47 del decreto semplificazioni 77 del 2021, il famoso secondo me antipasto di quello che verrà in Italia che è la politica di impatto, cioè utilizzare anche i contratti pubblici per generare impatto. L'articolo 47 sostanzialmente è un rompicapo nel mondo degli appalte e delle concessioni che noi invece più agevolmente possiamo mettere a terra attraverso gli strumenti del codice del terzo settore. L'articolo 47 è sostanzialmente utilizzare la leva strategica degli appalte e delle concessioni per fare occupazione giovenile, per fare occupazione di donne e fare le politiche di genere, rinviando a ipotetiche linee guida della Presidenza del Consiglio. Aggiungo ovviamente che pochi giorni fa sono stati approvati definitivamente anche i regolamenti sull'FSE, sull'FS Plus e il FESR e noi abbiamo lì delle norme importanti, ne cito solo due, ci torneranno utili in questa giornata e nella prossima sull'FS Plus, il regolamento sull'FS Plus, l'articolo 14 e l'articolo 17. L'articolo 14 perché sostanzialmente individua le azioni sociali innovative, azioni sociali innovative e articolo 17 indicatori e rendicontazione. Come vedete siamo assolutamente dentro la novità. Stamattina ero in un outcome team, cioè in un laboratorio interno all'interno di quello che è il FIS, Fondo dell'Innovazione Sociale, della Presidenza del Consiglio per la quale io collaboro e uno dei 21 comuni ammessi a finanziamento è il Comune di Bergamo, a dimostrazione cioè di cosa? Di sperimentazioni in Italia sul tema dell'innovazione sociale. Quindi anche qui leva dei parternari arti, degli appalti, ma anche dell'amministrazione condivisa in funzione delle politiche di impatto. Quindi non voglio perdermi, voglio la parte dialogica con voi, ma voglio fare questa premessa anche prendendomi Antonio il rischio di perdere mentalmente questa bellissima aula telematica, però è doveroso dire che noi dobbiamo conoscere e applicare al meglio tutti gli strumenti e quindi dobbiamo entrare dentro la logica, l'ingaggio, la dimensione e le finalità dei singoli strumenti. Quindi ovviamente per avvirginarci al nostro mondo dobbiamo partire, secondo me, dal primo caposaldo che è il principio di sussidiarietà orizzontale, che ci porta alla slide successiva, cioè sui contenuti delle pochissime parole chiave che io, sulle quali vorrei giocare, ma proprio per rendere più digeribile. Poi ovviamente ditemi se sarà sufficiente una sola pausa, oppure ahimè saranno necessarie due pause, saranno necessarie due pause, vorrà dire qualcosa. Quindi non sono autocentrato, quindi capirò quanta sofferenza vi sto procurando. Però provate a tenere alta l'attenzione il più possibile, almeno in questa prima parte, poi facciamo il gruppo d'autoaiuto. Quindi siamo dentro questa slide sul principio di sussidiarietà. Allora, intanto non ci fa male ricordare a noi stessi che dovremmo parlare di sussidiarietà al plurale, perché il principio di sussidiarietà in realtà noi lo troviamo scritto in Costituzione, nell'articolo 118. Questa cosa non è banale, questa cosa non è banale, e per due motivi. La prima, non abbiamo solo la sussidiarietà orizzontale, ma abbiamo anche la sussidiarietà verticale. Che cos'è la sussidiarietà verticale? Io sostanzialmente la paragono ad un ascensore. Al quarto piano, il piano più alto, ci sta lo Stato. Al terzo piano ci sta la Regione. Al secondo piano, città metropolitana o provincia, al primo piano ci stanno i comuni a pian terreno, ci siamo tutti noi, che viviamo quotidianamente le fatiche della vita terrena, della vita terreno, piano terra. Perché un ascensore? Perché ovviamente il livello più vicino alle esigenze della comunità è il livello comunale e mano a mano si sale e quindi noi recuperiamo una visione di insieme. Perché nella Costituzione noi troviamo così importante il principio di sussidiarietà? Perché il principio di sussidiarietà, nell'articolo 118, sostanzialmente come il nostro allenatore Mancini, che tra poco darà le maglie ai nostri azzurri, sperando di non perdere, e sostanzialmente dice chi fa cosa. L'articolo 118 è un po' come un grande allenatore di questa squadra chiamata funzioni amministrative, cioè sostanzialmente dobbiamo fare gol e per fare gol sostanzialmente individuiamo il calciatore che forse può fare meglio gol. E allora chi può fare gol? In questo caso, cambiando la metafora dell'ascensore con il calciatore che possa fare gol, qual è il livello più vicino al gol? Quello che sta più vicino l'attaccante, più vicino alla porta. Quindi, la sussidiarietà verticale, perché è importante nelle funzioni amministrative? Perché ovviamente la materia, le funzioni amministrative sono dei soggetti che, tra virgolette, devono risolvere i problemi di loro spettanza. E da questo punto di vista io voglio dire subito una cosa, vedete come la sussidiarietà verticale è legata all'esercizio delle funzioni amministrative. ma anche il principio di sussidiarietà orizzontale che tanto ci importa e che per noi è vitale è posto all'interno del 118 della Costituzione. Cioè, Antonio scusami c'è un ritorno forse dei microfono accesi, ti ringrazio. Non so se è ancora un'azione di disturbo perché vedete già gli effetti dell'eguleo sulla, avreste ragione, però io provo, l'ho presa da lontano, però mi serve. Perché se noi non inquadriamo anche il principio di sussidiarietà verticale orizzontale, fatichiamo ad entrare dentro la specificità della riforma del terzo settore. Quindi sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale sono nell'articolo 118 della Costituzione. L'articolo 118 della Costituzione è l'articolo che si riferisce alle funzioni amministrative. Sostanzialmente noi la maglia dell'attaccante la diamo a chi deve fare gol, perché noi dobbiamo fare gol. E allora qui vedete che andiamo subito alla seconda parola, cioè esercizio delle funzioni amministrative. E qui io vi chiedo come comuni chiaramente di fare riferimento a due norme due, due norme due, del testo unico degli enti locali. Il testo unico degli enti locali, che è un evergreen, è come una delle canzoni della grande Raffaella Carrà che ci ha lasciato, no? Ballavamo Pedro Pedro piuttosto che, come dire, come è bello far l'amore da Trieste in giù. Ecco, il testo unico degli enti locali è un evergreen che ci può ovviamente tranquillizzare. Articolo 3 e articolo 13 sono due norme semplici che ci dicono una cosa però importantissima per il sistema dei comuni. I comuni sono i soggetti che svolgono le funzioni amministrative nell'interesse della comunità. L'articolo 3,5 ci dice, attenzione, i comuni non fanno tutto da soli, non possono fare tutti da soli e lo fanno quindi anche con il supporto dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati. Quindi articolo 3, testo unico degli enti locali, ci dice che c'è una funzione amministrativa che per prima, la prima maglia, spetta i comuni perché stanno, vi ricordate l'ascensore, stanno vicino alla comunità, sono i più vicini alla comunità. Ecco perché siamo una nazione comunale, no? Ma già nel testo unico degli enti locali si dice l'esercizio delle funzioni amministrative in realtà va spalmata anche insieme ai cittadini singoli e associati. Questa cosa qui ha un risvolto ancora maggiore se andiamo all'articolo 13 del testo unico degli enti locali. Perché nell'articolo 13 sostanzialmente noi abbiamo addirittura delle funzioni che sono considerate funzioni fondamentali dei comuni. Cioè abbiamo sostanzialmente quasi una carta di identità e dentro questa carta di identità potremmo avere segni particolari, non bellissimi ovviamente, ma segni particolari. La materia del welfare appartiene ai comuni. I servizi alla persona sono funzioni fondamentali dei comuni. E allora vedete che se iniziamo a miscelare insieme, sussidiarietà verticale, sussidiarietà orizzontale, articolo 118 della Costituzione, testo unico degli enti locali, capiamo subito due cose. Capiamo cioè che i comuni sono il livello di governo più vicino alla comunità, al bisogno della comunità. La seconda cosa che capiamo, che impariamo, è che i comuni però non possono, non vogliono, non devono fare questo mestiere di risolvere i problemi della comunità da soli. Perché glielo dice la Costituzione con il principio di sussidiarietà orizzontale, ma glielo dice anche il testo unico degli enti locali. Non vi chiedo l'entusiasmo, datemi un cenno se sono chiaro. Perché sul lavoro non sono permaloso, sono calabro, sono permaloso nella vita privata, ma nel lavoro no, perché noi oggi dobbiamo portarci a casa delle chiarezze, perché queste cose ci possono tornare soprattutto utili nella seconda nostra puntata. A questo ovviamente si aggiunge un altro pilastro, no? Si aggiunge un altro pilastro. Guardate quanti anni ha questa legge così importante, che potremmo dire quasi facendo il verso alla pubblicità di quell'operatore economico Vodafone intorno a noi. Ecco, intorno a noi dal 1990, la legge 241 del 1990. È la legge sul procedimento amministrativo. È una legge antica. È una legge che sostanzialmente si nutre dell'evidenza pubblica. Vedremo dopo che cosa è questa evidenza pubblica. Perché è importante la legge 241 del 1990? Anche qui perché è una legge che non invecchia, ma viene costantemente aggiornata. Ebbene oggi abbiamo una legge 241 del 1990, modificata nel 2020, quindi pochi mesi fa, che pensate nell'articolo 1 che è la norma sui principi, ci dice una cosa fondamentale, miei cari amici collegati, che il rapporto tra pubblico e amministrazione e privati si fonda sul principio di buona fede, sui principi della collaborazione. E allora capite che tutto questo ci aiuta poi ad arrivare alla prima conclusione che io vorrei socializzare con voi di questa seconda slide. Prima però ovviamente dobbiamo dire un'altra cosa, che questo percorso formativo, ripeto, molto vincente e del quale io sono molto grato per esserne stato chiamato a farne parte, vorrei dire che qui dobbiamo fare un'altra operazione molto complessa. Unire leggi generali, la 241 è una legge generale, e unire la legge dell'azione di settore. E qui ovviamente siamo chiamati a un compito più difficile, più difficile. perché lo dobbiamo utilizzare in relazione, per esempio, alla disciplina generale sui contratti pubblici, oggi il codice dei contratti pubblici, ma siamo in Regione Lombardia, la dobbiamo ovviamente calare, per esempio, sulla base della legge 3 del 2008. Quindi una legge di settore per i servizi alla persona, i servizi integrati. figli, tra l'altro, della 328 e del DPCM 30 marzo, ed una grande domanda, la faccio in punta di piedi però, quanto di quella legge 328 del 2000, oggi è sicuramente, totalmente, vive e vegeta, e nella sua consistenza? E' una domanda scomoda, io la faccio in punta di piedi, ma è una domanda necessaria. Perché evidentemente, lo dico subito, un tema, il tema, o uno dei temi più rilevanti, è capire qual è anche il confine tra la legge regionale di settore e il confine che incontra con la normativa in materia di concorrenza. mi traduco perché il giurista è assolutamente insostenibile, me ne rendo conto, in un pomeriggio di luglio, dove noi vorremmo evidentemente essere impegnati in altro. Che cosa voglio dire? Attenzione! La materia dei servizi alla persona, 16 anni dopo, quindi siamo nel 2016, con il codice dei contratti pubblici, subisce uno shock importante. La materia dei servizi alla persona entra dentro la disciplina generale sui contratti pubblici. Quindi, lo dico sottovoce, perché oggi siamo soprattutto sul piano della coprogrammazione. Antonio, oggi non abbiamo l'ansia di scendere sul piano della coprogettazione e dintorni. Magari lo faremo settimana prossima, soprattutto nel dibattito tra di noi. Per oggi voglio solo mettere il titolo, non svilupparlo, di un tema generale, ma determinante. La materia dei servizi alla persona, quindi 328, la vostra legge, come la mia legge della Regione Emilia-Romagna, in realtà nel 2016 trova una disciplina generale sui contratti pubblici che per la prima volta considera anche i servizi alla persona, seppur con una disciplina differenziata, entrano totalmente dentro il mondo dell'affidamento dei contratti pubblici. Quindi non è il tema di oggi, ma una operazione complessa, complicata, delicata, e quello, lo dico in maniera chiara, stabilire il contatto, il coordinamento tra le discipline di settore e le discipline generali, statali e regionali. Vorrei però concludere quindi questa mia prima riflessione che ci porta alla conoscenza degli strumenti e quindi alla conclusione della prima giornata di oggi interrogarci, Antonio, intorno allo strumento della coprogrammazione. La prima conclusione che io vi sottopongo per un'eventuale condivisione, ma una condivisione non letterale, non naif, una condivisione vera, sostanziale, ed ecco perché vorrò avere quasi un'ora di tempo insieme a voi per dialogare e ragionare insieme. Lo sforzo ulteriore da fare è che cosa è davvero la sussidiarietà. Quando parliamo di sussidiarietà orizzontale, che è stato scritto in Costituzione nel 2001, dobbiamo avere il coraggio di farci la domanda che cosa intendiamo per sussidiarietà orizzontale. Il rischio è di non cogliere la specificità degli istituti che poggiano sul principio di sussidiarietà orizzontale, quindi gli strumenti del Codice del Terzo Settore. La conclusione che io pongo a voi è che la sussidiarietà non è supplenza, la sussidiarietà è collaborazione. Che cosa significa la sussidiarietà non è supplenza? Un rischio in alcune parti d'Italia è anche una realtà. Dove la pubblica amministrazione non arriva, non può arrivare, non arriva facilmente, non vuole arrivare, ecco che la pubblica amministrazione si avvale del Terzo Settore. Quindi quell'intervento è un intervento di surroga, è un intervento di avvalimento, è un intervento di supplenza, ovvero sia il Terzo Settore si sostituisce o comunque su richiesta della pubblica amministrazione fa delle cose che in prima battuta dovrebbero essere svolte dalla pubblica amministrazione. a mio sommesso avviso non è questa in alcun modo la declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Perché il principio di sussidiarietà orizzontale è invece espressione di cooperazione, di collaborazione, cioè di fare insieme. E allora se partiamo da questo pistolotto noiosissimo forse però noi abbiamo una chance di metterci correttamente sul nostro ragionamento e comprendere dalla giusta declinazione che è quella che io vi propongo, cioè da una possibile declinazione che io assumo come coerente con la Costituzione italiana forse saremo in grado di capire per esempio intorno all'Istituto della Coprogrammazione. Attenzione! Sussidiarietà non è supplenza, sussidiarietà è collaborazione, ma anticipo un titolo, il trailer del film che dovremo sviluppare oggi e la prossima settimana, collaborazione non è codecisione. collaborazione non è confusione, cum fondere, fondere insieme, cioè perdere le prerogative, le competenze, le funzioni, le potestà, i poteri. La pubblica amministrazione mantiene il diritto e il dovere di decidere. La pubblica amministrazione mantiene la sua titolarità di un potere pubblico. La pubblica amministrazione conserva il dovere di risolvere ascensore il problema della comunità. Tuttavia, se la pubblica amministrazione sceglie come modalità di esercizio del suo potere pubblico, quella della sussidiarietà orizzontale, ecco che cambia il volto del potere. Quel potere non è più un potere autoritativo, non è un potere unilaterale, non è un potere regolatorio, non è un potere sanzionatorio, non è un potere tra virgolette cattivo, ma cambia volto. E qui andremo dopo sulla nuova fisionomia della riforma del terzo settore. Quindi, sussidiarietà, sussidiarietà non è supplenza, sussidiarietà è collaborazione, collaborazione autentica, ma la collaborazione non significa cum fondere, fondere insieme le prerogative, i compiti e le funzioni. Questo è importantissimo perché, lo dico subito, caro Antonio, cari voi tutti collegati, un fraintendimento terribile che può nascere da questi strumenti e di pensare che il terzo settore e la pubblica amministrazione perdano la rispettiva consistenza e che tutto diventi una co-decisione, una co-gestione. Attenzione, lo vedremo oggi, lo vedremo la prossima settimana, in che termini si crea questa collaborazione, quali sono gli elementi, il perimetro di questa collaborazione. Possiamo andare, grazie al mio angelo custode, alla seconda slide che anche qui è fondamentale ed è il senso di una riforma. Perché noi non possiamo correre il rischio di andare subito all'articolo 55,2 Antonio entrare dentro come come degli scolaretti nella coprogrammazione, blaterare la norma e arrivare a delle conclusioni senza aver capito l'incastro del codice del terzo settore all'interno di una riforma più complessiva. E proviamo a vedere queste altre parole chiave nella slide successiva che anche qui ho voluto proprio sinteticamente rappresentare per non appesantire ulteriormente la vostra benevola attenzione nei miei confronti. Intanto vedete il CTS che non è il centro turistico studentesco lo avevamo quando eravamo studenti all'università ma è un codice che parte dalla riforma e quindi dovremmo anche sempre ricordarci che noi dovremmo partire dalla legge delega ma se aprissi dalla legge delega Antonio io so che fingereste tutti i problemi con la linea e abbandonereste l'aula ma sarebbe anche necessario partire dalla legge delega del 2016 ma sicuramente noi dobbiamo incastonare questi nostri ragionamenti all'interno della riforma più complessiva del terzo settore che è fatta di una disciplina nuova sul servizio civile universale che è fatta di una disciplina nuova sul 5 per 1000 pochi giorni fa sono stati pubblicati nuovi dati che è fatta di una disciplina organica manca ancora di alcuni importanti decreti ma è una disciplina organica sull'impresa sociale e da ultimo il codice del terzo settore anche qui vorrei combattere un rischio il rischio di leggere in verticale anche le singole riforme ma invece noi dobbiamo fare un'altra operazione quella cioè di mettere insieme quindi il 5 per 1000 in realtà noi lo possiamo mettere già a vedere insieme Antonio alla coprogrammazione ad una coprogettazione virtuosa per non parlare di altre cose di cui parleremo fra poco il secondo riferimento è al codice del terzo settore guardate io non so se vinceremo stasera ma sicuramente come popolo italiano dovremmo essere fieri della nostra lingua italiana perché la lingua italiana è una lingua importante allora le parole hanno un peso perché codice del terzo settore non testo unico del terzo settore sembrerebbe una roba da legulei tristi noiosi come il sottoscritto ma così non è non è una questione di lana caprina dietro le parole c'è una sostanza che cos'è un testo unico io la paragono Antonio ad una potatura degli alberi cioè tolgo il superfluo per mantenere in vita a questo corpo che deve resistere negli anni quindi tolgo il superfluo perché quest'albero resista nel tempo il codice è invece un qualcosa di diverso di più prezioso di più importante il codice ha contenuti innovativi quindi noi dobbiamo voler bene al codice del terzo settore perché dentro il panorama dell'ordinamento giuridico è una riforma innovativa a contenuti innovativi per questa ragione come tutte le riforme ha bisogno di tempo quindi noi dobbiamo essere pazienti non dobbiamo cioè lapidare subito la riforma dobbiamo dare il tempo che questa riforma nel tempo trovi consolidamento e allora proviamo in controluce da lontano come si fa con Google Earth prendendola da lontanissimo oppure quando andremo insieme a Bezos su Marte vedremo la Terra da Marte ma vediamola da lontano questo questo codice che cos'è questo codice intanto come forma come tecnica legislativa cioè il legislatore quando ha voluto fare un codice del terzo settore tra l'altro attenzione nello stesso anno in cui un'altra legge delega ha detto recepite direttiva appalto e concessione sulla materia dei contratti pubblici quindi che cos'è questo codice a livello italiano non ho dubbi a ritenere il codice del terzo settore come uno dei rari singolari esempi di quello che io chiamo un diritto al positivo di un diritto che ragiona in modo positivo di un diritto abilitante cioè di un diritto che non ha la funzione come il codice della strada di mettere il limite chiaramente di percorrenza a 90 km orari superato il quale scatta la sanzione quindi un diritto che regola i comportamenti un diritto che controlla i comportamenti un diritto che sanziona i comportamenti difforme con la riforma se noi partissimo principio di sussiderietà ma poi dalla legge delega noi ci accorgeremmo che questo diritto ha una missione diversa ha una missione di sostenere di promuovere sostenere e promuovere che cosa? il coinvolgimento attivo degli enti di terzo settore quindi è un diritto che sostiene è un diritto che abilita e abilita anche le nuove forme di partenariato pubblico privato sociale quindi spero come diceva Steve Job unisci i puntini e alla fine vedrà la figura che possiate solo ora lontanamente vedere la figura che proveremo a raccogliere settimana prossima cioè tutti gli strumenti compreso la coprogrammazione sono figlie di questa logica ispiratrice quindi il codice del terzo settore che è una normativa innovativa in realtà ha un mestiere ben preciso non è un mestiere di regolare di comandare di prescrivere di sanzionare ma è un diritto buono è un diritto che ragiona al positivo è un diritto che sostiene sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati è un diritto cioè che attualizzi e applica il principio di sussidiarietà orizzontale è tutto qui il codice del terzo settore rappresenta l'applicazione organica del principio di sussidiarietà orizzontale è pertanto un disegno organico è pertanto un disegno organico badate guai a leggere un articolo del codice del terzo settore sganciato dagli altri quindi coprogrammazione articolo 55 comma 2 deve essere sempre vista all'interno di questo disegno organico un disegno organico che ovviamente poggia su dei perni su dei pilastri di questa costruzione che è una costruzione nuova quali sono i pilastri di questa costruzione capendo i quali evidentemente ci è più chiaro anche capire le potenzialità e l'opportunità degli strumenti il primo è un pilastro importantissimo l'articolo 4 per la prima volta in Italia noi abbiamo un'elencazione di quelli che sono gli enti di terzo settore ma soprattutto nell'articolo 4 abbiamo anche una clausola aperta non è un mondo chiuso potrà anche evolvere nel tempo quindi abbiamo una concetto dinamico di enti di terzo settore dentro l'articolo 4 ovviamente abbiamo anche già subito una spia normativa un'indicazione normativa di che cosa sono questi enti di terzo settore qual è il mestiere davvero statutariamente ma sostanzialmente gli enti di terzo settore al di là di chi siano enti filantropici cooperative associazioni è importante quello che fanno e come lo fanno gli enti di terzo settore sono dei soggetti che mi verrebbe da dire a prescindere dalla veste giuridica svolgono una loro attività per finalità civiche solidaristiche di utilità sociale guardate non dimentichiamoci mai questi questi pezzi degli articoli per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che cosa fanno quale altro pilastro è collegato immediatamente è semplice è l'articolo 5 l'articolo 5 è centrale nel nostro racconto perché l'articolo 5 indica elenca le cosiddette attività di interesse generale quindi sostanzialmente sono le attività che noi troviamo negli statuti di questi enti di terzo settore sono le attività che effettivamente vengono messe in piedi tra cui i servizi sociali perché sono importanti già da soli questi due articoli articolo 4 enti di terzo settore articolo 5 attività di interesse generale perché che questi soggetti a breve entreranno in un registro in un club non so se di eletti o sicuramente in un club dove la tessera di ingresso costa molto perché entrare nel registro unico nazionale il terzo settore è oneroso sarà oneroso perché sostanzialmente io dovrò comportarmi in un certo modo perché a dati assuperamento di dati volumi di attività io sarò tenuto alla redazione del bilancio sociale governance il rapporto di pagamento dei corrispettivi il famoso 1 a 8 ed altre cose tenuta dei libri e delle scritture contabili ovvero sia chi entra dentro questo club è onerato cioè sostiene degli oneri onus dal latino onus peso quindi sostiene dei pesi chi sono questi soggetti sono soggetti spero che nonostante il pistolotto mi seguiate perché sono concetti noiosi ma fondamentali per apprezzare gli istituti gli strumenti questi soggetti sono dei soggetti che entreranno nel disegno organico del codice in un club di eletti in un club di soggetti che pagano una quota annuale se vi danno fastidio le metafora Antonio ti prego di dirmelo ma a me aiutano pagano una quota una fidelity card molto cara e questa quota perché è onerosa perché in realtà io svolgo una mia attività non in un modo qualsiasi ma solidaristica e di utilità sociale quindi lo faccio somigliando sempre di più quel soggetto che è più vicino a me cioè la pubblica amministrazione il perno ritorna sempre a essere articolo 5 attività di interesse generale quindi vi prego di apprezzare lo sforzo che sto facendo di partire dal testo unico degli enti locali articolo 3 comma 5 i comuni svolgono le funzioni amministrative ma non ce la fanno da sole e si servono quindi in una concezione buona del principio di sussidiarietà orizzontale insieme agli enti ai cittadini singoli associati ecco quindi che gli enti di terzo settore nel disegno organico del codice somigliano più di quanto noi possiamo pensare alla pubblica amministrazione il l'architrave il miracolo giuridico viene consegnato all'articolo 5 io spero di arrivare a voi vi prego di darmi un cenno non di entusiasmo ma di chiarezza il perno è l'articolo 5 cioè nelle attività di interesse generale vi è la possibilità di un riconoscersi di collaborare cioè di stare dalla stessa parte sostanzialmente l'articolo 5 che enuncia le attività di interesse generale in realtà sono il punto di contatto tra la PA e gli enti di terzo settore e allora capiamo iniziamo a vedere la figura che Steve Jobs ci chiede quotidianamente di vedere perché noi dobbiamo costruire figure ma per arrivare alle figure dobbiamo seminare è evidente che io posso chiedere in questo caso ad una platea di eletti che pago una quota una fidelity card cara sul presupposto che evidentemente con l'altra mano do agli enti di terzo settore quindi con una mano prendo e con l'altra rendo che cosa rendo? allora è evidente che forse ci spieghiamo meglio l'intero titolo settimo ed altre misure del codice del terzo settore che in realtà sono state previste per compensare quegli oneri per premiare gli enti di terzo settore per aver sopportato quel peso chi entrerà nel registro sarà leggibile in tutta Italia noi cittadini italiani la democraticità la trasparenza sono obblighi per poter continuare a stare dentro il registro unico nazionale del terzo settore quindi il titolo settimo articolo cinquantacinque seguenti coprogrammazione coprogettazione accreditamento locale convenzioni ma aggiungerei Antonio articolo 71 la valorizzazione dei beni ma l'articolo 81 social bonus ma l'articolo 89 17 la valorizzazione dei beni culturali articolo 69 importantissimo per le prossime settimane accesso all'fse e agli altri strumenti finanziari legacy pnrr fondi complementari fesr fs plus fse cioè queste cose qui sono il dono sono la ricompensa sono il controbilanciamento che la pubblica amministrazione deve riconoscere a fronte di una particolare meritorietà che questi soggetti mettono in campo perché non sono tenuti a farlo ma se lo fanno perché credono nell'attività di interesse generale e allora vedete come l'attività di interesse generale diventa la famosa stella polare la stella polare nella quale si riconoscono gli enti di terzo settore e la pubblica amministrazione ovviamente non significa che non ci siano controlli segnatevi due norme che paranoicamente noi dovremmo coltivare quotidianamente pubblica amministrazione articolo 92 articolo 93 il sistema dei controlli ci saranno i controlli per i registri ma le pubbliche amministrazioni pensate i comuni pensate gli ambiti pensate distretti unioni di comuni società in house chiunque nel momento in cui io do un contributo nel momento in cui do un bene nel momento in cui attivo la coprogettazione articolo 92 93 io devo accertarmi quindi controllo che l'attività messa in essere dall'ente di terzo settore sia un'attività di interesse generale sia stata svolta per finalità civica solidaristica o di utilità sociale nonché conformemente al codice e quindi allo scopo per il quale io ho orientato quell'attività quindi concludo su questo pezzo e credo di aver bisogno io di una pausa poi mi sono reso conto che nelle tre ore anche un'ora ma arriverei morto quindi proverò ad andare avanti e poi ad un certo punto quando le mie corde vocale perché ovviamente con il caldo che c'è ovviamente sono combattute anche dall'area condizionata quindi c'è un gioco anche di correnti interiore come dire appassionata al tema ma c'è la corrente fredda spero di essere stato chiaro in questo secondo treno di ragionamento cioè abbiamo una riforma del terzo settore il codice è un pezzo di questa riforma questa riforma si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale da un lato dall'altro lato sulle attività di interesse generale l'attività di interesse generale è lo spazio è il terreno nel quale pubblica amministrazione ed enti di terzo settore si riconoscono e condividono quella che io chiamo la comunanza di scopo quindi la coprogrammazione altro non è che uno strumento per dare vita all'amministrazione condivisa come la corte costituzionale ci ha detto ma l'amministrazione condivisa che cos'è? è l'applicazione organica del principio di sussidiarietà orizzontale a questo punto chiedo al mio angelo custode che non sbetterò mai di ringraziare debitamente e potrò solo fare omaggi telematici Antonio ripromettendomi quando sarà possibile farlo in presenza di omaggiarlo fisicamente purtroppo però noi dobbiamo adesso affrontare un angolo di una piazza un incrocio pericoloso nel nostro cammino che è il rapporto tra concorrenza e il rapporto con la collaborazione perché noi non possiamo neppure girarci dall'altra parte e fingere che la riforma non abbia introdotto delle domande delle domande nuove e vediamo allora la scheda successiva che cosa ci propone in questo nostro cammino nel rapporto tra concorrenza e collaborazione ovviamente non possiamo non partire dal notissimo parere del Consiglio di Stato 2052 del 2018 un parere cioè che era nato in un gruppo di lavoro specifico riguardava il mondo degli Sprar e dei CAS fra l'altro quindi l'autorità nazionale anticorruzione in un gruppo di lavoro chiese al Consiglio di Stato un parere quindi si partiva da un tema settoriale era cioè un gruppo di lavoro nell'ambito dell'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione quindi parte generale parte speciale CAS e Sprar sia chiaro quindi ANAC ferma quel gruppo di cui faceva parte ANCI nazionale e chiede al Consiglio di Stato una cosa banale come si affidano i servizi sociali ANTO la domanda era se vogliamo anche ingenua probabilmente troppo ben posta come si affidano i servizi la risposta del Consiglio di Stato è stata mi verrebbe da dire anche coerente i servizi i servizi si affidano se la domanda è come si affidano i servizi la domanda è si affidano secondo il codice dei contratti pubblici che è la normativa di riferimento per la materia della concorrenza dici sì poi ci sono questi strumenti del codice del terzo settore ma sostanzialmente li potete utilizzare sostanzialmente in due ipotesi uno purché non si affidino servizi quindi purché non si affidino servizi che significa il mio servizio in appalto non posso trasformarlo in coprogettazione non può esserci un servizio una dimensione selettiva cioè scelgo chi deve fare il servizio ma poi addirittura il consiglio di stato ha ancora tutto a questo maledettissimo concetto di gratuità cioè li puoi utilizzare questi strumenti laddove in realtà è l'ambito della gratuità tema buttato lì tema non lo è sviluppato approfonditamente dal consiglio di stato ma sarà sufficiente rilevare che il codice del terzo settore non conosce il concetto di gratuità ma conosce un diverso istituto che è quello della non lucratività come voi ben capite c'è il mare di mezzo tra la gratuità e la non lucratività dalla riforma del terzo settore noi impariamo che cosa è la non lucratività e capiamo che cosa è diversa dalla gratuità in quelli stessi mesi però tanti comuni tanti ambiti tanti distretti unioni di comuni in Piemonte consorsi di comuni avevano iniziato a praticare esperienze anche molto virtuose di coprogettazione addirittura in quegli anni cito la regione toscana siamo nel 2018 approva una legge nuova legge sulla cooperazione sociale alla quale ha avuto il privilegio di poter lavorare e lì dentro trasponiamo da subito a livello regionale gli istituti della coprogettazione coprogrammazione e coprogettazione quindi abbiamo addirittura una declinezione a livello regionale con fonte normative quella legge non viene impugnata dalla corte costituzionale quindi abbiamo anche un livello della legislazione regionale ma il parere del consiglio di stato gela tutto è come se fosse stata una gelata Antonio primaverile come dire una semina gelata perché evidentemente i nostri comuni i nostri cari comuni di fronte ad un parere così riduttivo con tutto il rispetto per i segretari generali magari direttori generali ovviamente la prima lettura è stata non si può fare cioè non sono ovviamente istituti praticabili ed ecco allora che si arriva se c'è ovviamente un cambio di pagina bisogna aspettare vedete il 2020 bisogna aspettare il 26 giugno 2020 la celebre oramai sentenza della Corte Costituzionale 131 sentenza della Corte Costituzionale che prende a pretesto un litigio tra lo Stato e il Governo e la Regione Umbria su una legge regionale la legge sulle cooperative di comunità e sostanzialmente la Corte Costituzionale come un arbitro come l'arbitro che stasera arbitrerà Italia Spagna sperando che sia meno performante del precedente arbitro ma la Corte Costituzionale come arbitro viene chiamata a dare ragione allo Stato o alla Regione su un problema settoriale sostanzialmente il problema era ma una cooperativa di comunità può fare coprogettazione può fare coprogrammazione e ovviamente la risposta è legata al fatto se la cooperativa di comunità è riconducibile o meno alla qualifica giuridica di enti di terzo settore quindi sostanzialmente la Corte Costituzionale dice se la cooperativa di comunità è enti di terzo settore no problem se la cooperativa di comunità non è enti di terzo settore iniziano a sorgire i problemi la Corte Costituzionale però fa una cosa miracolosa fa una cosa fondamentale sostanzialmente prende a pretesto questa vicenda e visto come dire la gelata nell'utilizzo di questi strumenti fa un mestiere in più fa il mestiere cioè dell'interprete sostanzialmente la Corte Costituzionale ci ha chiarito che il principio di sussidiarietà orizzontale con il codice del terzo settore viva intorno a noi e vive attenzione in tutte le attività di interesse generale dell'articolo 5 quindi oggi Antonio noi ci preoccupiamo soprattutto di sociale ma attenzione spaziamo dalla riqualificazione dei beni pubblici alla valorizzazione del patrimonio culturale all'alloggio sociale alla sanità all'istruzione alla formazione lo dico soprattutto in ore e in giorni dove il tema dell'emergenza sfratti evidentemente è un grande problema e anche le connessioni tra sociale e abitare sono sotto gli occhi di noi tutti quindi la Corte Costituzionale ci dice attenzione che guardate che questi strumenti intanto riguardano le 26 attività di interesse generale dell'articolo 5 la seconda cosa fondamentale che questi istituti non sono figli di nessuno non sono figli di serie B non sono figli abiusivi non sono figli di Antonio perdonami io sono meridionale di una fuitina non sono figli nati chissà da quale peccato sono figli di una disciplina a livello nazionale codice nel recepimento di una legge delega ma attenzione dice la Corte Costituzionale addirittura pienamente conforma con la direttiva Palti quindi con il quadro normativo europeo terza cosa la Corte Costituzionale ci fa un affresco ci fa veramente in pochissime parole ma con una chiarezza disarmante bellissima che cosa è davvero l'amministrazione condivisa e queste parole Antonio dalla Corte Costituzionale cari amici collegati ci tornano utili nell'entrare dentro lo strumento della coprogrammazione perché l'amministrazione condivisa secondo la Corte Costituzionale che parafrasa il codice del terzo settore partendo dal principio di sussidiarietà orizzontale è davvero mettersi insieme per fare che cosa? quello che è ritenuto opportuno necessario per la comunità di riferimento quindi la chiave di volta dell'amministrazione condivisa che ci torna fondamentale nella scelta tra gli strumenti è la causa dell'affidamento il motivo per cui noi scegliamo un appalto o una coprogettazione una programmazione biennale degli acquisti articolo 21 del codice dei contratti pubblici o una coprogrammazione cioè la corte costituzionale ci inizia a dire guardate che dirimente è l'opzione politica dirimente è Antonio l'opzione politica la scelta cioè tra mercato o collaborazione la scelta è tra un mero rapporto di controparte su base corrispettiva quindi io ti ordino di fare una cosa e tu la fai se la fai bene io ti pago dall'altro lato invece abbiamo la logica della collaborazione attenzione nessuno dice al di fuori dell'evidenza pubblica ma nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della disciplina della 241 del 1990 quindi sulla disciplina dei procedimenti amministrativi ma la corte costituzionale ci aiuta ci fa capire che cambia completamente il paradigma perché per la prima volta in Italia tutte le amministrazioni pubbliche sono più ricche perché possono scegliere che cosa possono scegliere possono scegliere tra gli strumenti partendo dai presupposti il presupposto qual è che cosa è per me l'entito di terzo settore è un mero prestatore di servizi o è altro perché se è un mero prestatore di servizi allora io mi preoccuperò di trovare Antonio l'appalto migliore o la concessione migliore per ottenere dal mio prestatore di servizi enti di terzo settore la migliore prestazione ed ecco qui che riprendo il concetto iniziale del pistolotto iniziale Antonio noi dobbiamo conoscere tutti gli strumenti e applicarli al meglio laddove io ho bisogno di un mero prestatore di servizi non è detto che io debba fare il solito appalto tradizionale perché io oggi posso fare un appalto super performante posso cioè fare un appalto con clausole sociali posso fare un appalto che utilizzi l'offerta economicamente più vantaggiosa in modo innovativo posso fare appalti innovativi posso fare appalti strategici posso fare appalti per l'innovazione parternate per l'innovazione dialogo competitivo posso fare gare riservate articolo 143 del codice dei contratti pubblici quante gare riservate nel sociale abbiamo fatto in Italia pochissime la commissione europea ha fatto una rilevazione in 15 stati membri tra cui l'Italia è venuto in Italia ha fatto la rilevazione e ci ha contestato che noi soprattutto italiani abbiamo chiesto queste norme nelle direttive e non le stiamo utilizzando quindi attenzione la scelta è in primo luogo che cosa è per me l'ente di terzo settore perché se la risposta che io e noi ci diamo alla domanda che cos'è per me e invece non un mero prestatore di servizi ecco che noi dobbiamo andare a vedere tra gli strumenti che ci dà la cassetta degli attrezzi del codice dei contratti pubblici però mancava un qualcosa mancava un dato formale fondamentale che pochissime settimane dopo nel settembre 2020 con la legge 120 che è la legge di conversione del decreto semplificazioni e qui ci tengo a rivendicarlo soprattutto per iniziativa di Anci Nazionale che propone degli emendamenti al Senato prima e alla Camera dopo e che ho avuto il privilegio di poter estendere personalmente ebbene con questi tre emendamenti voluti ribadisco da Anci Nazionale per chiarire come fare se le pubbliche amministrazioni vogliono scegliere altro sono state portate tre modifiche al codice dei contratti pubblici fondamentali all'articolo 30 all'articolo 59 e all'articolo 140 l'articolo 30 è la norma centrale sui principi principi per l'affidamento dei contratti pubblici l'articolo 59 è norma altrettanto importante riguarda le procedure l'articolo 140 è la norma sui servizi della persona e poi gli altri servizi dell'allegato nuovo del codice dei contratti pubblici cioè la norma su anche i servizi sportivi i servizi culturali so che siete già stanchi consentitemi Antonio se siete d'accordo di completare l'ultimo pezzo perché poi entreremo da subito nelle linee guida ministeriali e quindi nella coprogrammazione per arrivare poi freschi alla parte dialogica fra di noi ebbene che cosa dicono queste modifiche al codice dei contratti pubblici sulle quali io vorrei che ci fosse consapevolezza tra di noi sono pochissime parole ma importanti aperte virgolette fermo restando le forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal decreto legislativo 117 al 2017 certo come tecnica legislativa Antonio mi rendo conto che non è il massimo no? è stata un po' una formulazione così criptica ma l'obiettivo risultato finale ultimo è importantissimo quel fermo restando significa che dentro il codice dei contratti pubblici noi in Italia abbiamo che le pubbliche amministrazioni possono scegliere o la competizione il mercato e gli strumenti a disposizione del mercato oppure possono scegliere le vie e gli strumenti della collaborazione in primo luogo quelli del codice del terzo settore e qui badate bene la coprogrammazione intuite allora quanto è importante perché la coprogrammazione caro Antonio non è solo in relazione ai piani di zona ma la coprogrammazione è anche in relazione al programma almeno biennale articolo 21 del codice dei contratti pubblici che noi facciamo per dire quello che diventa servizio per dire come lo affidiamo se un sottosoglio se un soprasoglio se in appalto o in concessione e allora capite bene di come la coprogrammazione arricchisce l'insieme delle opportunità della stessa pubblica amministrazione da ultimo la corte costituzione con la sentenza 255 del 2020 prende atto fotografa che nel frattempo erano intervenute quelle modifiche al codice dei contratti pubblici quindi la corte costituzionale come aveva fatto la sentenza 131 blinda queste modifiche che sostanzialmente lo voglio dire chiudendo la prima parte e ovviamente se Antonio si è d'accordo di fare una prima pausa chiedendo subito se ci sono chiarimenti immediati da dare perché non voglio chiudere con il dubbio vorrei però chiudere con l'aspetto centrale di questa mia carrellata spero almeno chiara che questa galoppata che io vi ho fatto fare mi rendo conto di avervi annoiato ci consegna oggi una ricchezza di strumenti ma soprattutto il principio cardine che è il diritto di scelta della pubblica di amministrazione tra gli strumenti e la scelta è in relazione di due fattori uno soggettivo l'altro oggettivo il fattore soggettivo che cosa è per me l'entiti di terzo settore mera controparte contrattuale controparte contrattuale cioè parte contrapposta contrattualmente quindi un esecutore di un mio servizio elemento oggettivo l'elemento oggettivo che io non affido un servizio contendibile in un mercato regolato da me gestito ma io voglio attivare un rapporto di partnership un rapporto di collaborazione vedremo dopo la pausa se Antonio è d'accordo di fare la pausa però attenzione nel rispetto ferro e principi di trasparenza e di evidenza pubblica e coltivando procedimenti amministrativi nel darti la parola Antonio nel chiederti se secondo te dobbiamo anche raccogliere da subito domande o lamenti o come li chiamo gli ortaggi emotivi tra l'altro riconosco la dottoressa Roberti che se non sbaglio era a Bologna nella lezione la saluto affettuosamente nel chiederti Antonio da subito di segnalarmi anche ortaggi emotivi che accetterò perché queste giornate sono pesanti ma dobbiamo essere sinceri tra di noi quindi se devo correggere qualcosa lo farò in corsa io ce la sto mettendo tutta ma questa fatica è una fatica doverosa perché se entreremo dentro le viscere della riforma di come è nata e del rapporto conflittuale con il codice dei contratti pubblici e per fortuna poi ad un assestamento forse siamo in grado di capire anche le grandi potenzialità di questi strumenti uno fra questi quello della coprogrammazione quindi Antonio ti cedo la parola ringraziando i 63 eroi finora per veramente il gesso stoico dimostrato finora sì grazie Luciano ma io direi che indubbiamente possiamo concordare sulla pausa però se ci fosse già qualche domanda o necessità di riferimento forse è opportuno cogliere subito se anche tu sei d'accordo non vedo per ora richiesta in chat ovviamente sono a disposizione ma io ritengo per esperienza facendo molta formazione che il livello di attenzione si è saturato non per colpa loro ma per inevitabile impatto mio in questo caso è una valutazione di impatto sociale negativa e quindi credo che ci sia un diritto sacrosanto a parte loro di respirare con la mia unica speranza che poi le sciocchezze che sto dicendo con il tempo si sedimenteranno e con un'operazione di setaccio qualcosa di buono resterà però credo che la mia proposta è di far decantare proprio per un'esigenza psicofisica da parte loro quindi se sei e se siamo tutti d'accordo prenderei questi 8-9 minuti e ritrovarci puntuali alle 17.30 perfetto grazie grazie a voi 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 faticoso ma arriveremo stanchi quindi vorrei arrivarci freschi insieme a voi perché si vince al novantesimo continuando nella metafora calcistica dall'italiano medio ma oggi giochiamo quindi ci sta tutto bene grazie al mio angelo custode nel riprendere la presentazione odierna ed il riferimento evidentemente Antonio perdonami fa fa eco con il microfono grazie mille a questo punto non possiamo non entrare dentro avvicinandoci no come con google earth appunto al nostro indirizzo che è la coprogrammazione poi rispetto alle declinazioni che vedremo settimana prossima allora il riferimento d'obbligo è alle linee guida ministeriali e quindi alla scheda successiva che ci consente di lavorare intorno a questo provvedimento intanto prima del suo contenuto dell'efficacia credo che sia importante anche richiamare un po' la genesi di queste linee guida è il frutto di un lavoro molto lungo iniziato a marzo del 2020 quindi in piena pandemia e sulla base di una richiesta espressa di istituire un gruppo tecnico di lavoro formulata all'interno del consiglio nazionale del terzo settore quindi il consiglio nazionale del terzo settore proprio partendo dalle difficoltà interpretative che aveva generato il parere del consiglio di stato quindi parliamo sessione della riunione del gennaio del 2020 del consiglio nazionale terzo settore marzo 2020 viene costituito questo gruppo tecnico ehm riterrei importante sottolineare che ehm oltre al ministero del lavoro evidentemente vi erano alcune regioni ANCI nazionale e il forum del terzo settore nazionale ehm io da un punto di vista tecnico insieme a una collega del dipartimento welfare eh seguivo per ANCI nazionale i lavori del gruppo ehm attenzione non eh c'era nulla nelle cose che vi ho raccontato cioè quando il gruppo inizia a lavorare non esisteva la sendenza della corte costituzionale non esisteva eh non esistevano le modifiche al codice contratti pubblici quindi sostanzialmente partivamo dal quadro abbastanza problematico del consiglio di stato con quel famoso parere quindi quel gruppo di lavoro aveva un preciso mandato provare a eh elaborare un documento comune per restituire ai comuni un minimo di certezza se e a quale condizione poter utilizzare quegli strumenti tra cui gli strumenti della coprogrammazione come potete immaginare le fatiche non sono state banali perché lavorare avendo un parere fortemente restrittivo non agevolava i lavori ma nella vita bisogna anche credere se non è miracoli anche agli eventi agli accadimenti positivi e quindi a giugno del duemilaventi interviene la sentenza della corte costituzionale a settembre del duemilaventi le modifica il codice dei contratti pubblici e quindi all'aggremente iniziamo a chiudere questo documento che poi viene portato in consultazione informale tecnica con le venti regione delle due province autonome e questo lavoro viene completato a dicembre e portato chiaramente alla parte politica e quindi 25 gennaio 25 marzo chiedo scusa 25 marzo conferenza unificata quindi viene sancita l'intesa dalle venti regioni e le due province autonome il governo e anci nazionale e vorrei aggiungere anche upi per le province e il 31 di marzo approvato con decreto ministeriale numero 72 le linee guida perché è importante raccontare la genesi perché in un particolare momento anche del nostro paese dove la contraposizione anche tra regioni governo in alcuni momenti è stato anche pronunciato pensate a tutto il tema vaccinale pensate anche alle chiusure alle reperture ebbene come ama ricordare il direttore generale del ministero del lavoro che ha seguito questo provvedimento sulle linee guida ministeriali c'è stato l'unanimità da parte di tutti i livelli della governance territoriale quindi queste linee guida che non sono il vangelo non sono la bibbia non sono scolpiti sulla pietra non hanno la presunzione antonio di essere cogenti vincolanti perfette perfettibili ma sono solo un documento interpretativo sul quale però è stata raggiunta l'unanimità da parte delle venti regioni le due province autonome il livello governativo del ministero e di anci nazionali quindi c'era un bisogno di un orientamento comune quindi di una parola fine su tante anche incertezze interpretative e le linee guida dicono chiaramente nelle premesse che queste linee guida potranno anche nel tempo essere modificate migliorate ma sicuramente una cosa è chiara la finalità di queste linee guida sono supportare gli enti le amministrazioni pubbliche nella corretta applicazione del codice del terzo settore quindi riterrei antonio che al di là della loro cogenza spesso mi si fa la domanda ma sono vincolanti forse l'unica cosa che è vincolante nella vita è la morte nel senso che ma al di fuori di questo le linee guida in realtà sono un documento condiviso da tutti i livelli di governo statale regionale e locale costituiscono quindi una base minima di ragionamento cioè una base di costruzione di un quadro di interpretazione entriamo dentro un po il contenuto ritengo che la parte forse la parte davvero una delle parti più importanti sia la prima parte nella quale viene fatto l'inquadramento generale degli strumenti del codice del terzo settore perché è importante perché conformemente alla sentenza della corte costituzionale le linee guida ministeriali dicono spero in modo chiaro qual è la differenza dell'ingaggio tra mercato da un lato e collaborazione dall'altro qui vedete la telematica inizia a remare a remare contro non so se vedete anche voi ogni tanto tagliato ma noi resisteremo e ringrazio sempre l'angelo custode per la sua assistenza dicevo la prima parte nell'inquadramento le linee guida dicono chiaramente ragazzi attenzione qui noi dobbiamo partire da due operazioni la prima è individuare davvero qual è il motivo per il quale noi utilizziamo questi strumenti quindi qual è la causa direbbero i giuristi noiosi la causa di questa collaborazione diversa dalla causa di un contratto d'appalto la seconda cosa che viene rimarcata nell'iniguita e mi sembra davvero un passaggio decisivo viene ribadito questo concetto dell'opzione politica questo carantonio è importante perché ci porta dopo ai principi dell'articolo 55,1 del codice dove troviamo in primo luogo il principio di autonomia organizzativa e regolamentale principio di autonomia organizzativa e regolamentale sulla quale ritornerò quindi nell'inquadramento generale le linee guida dicono questi due concetti macro scusate se inizio ad essere superficiale perché altrimenti svuoteremo l'aura telematica quando la curva dell'attenzione San Moscio e Antonio hanno insegnato che bisogna iniziare a rimandare delle immagini che agevolino la solidificazione del messaggio primo messaggio la pubblica amministrazione può scegliere questa è opzione politica ma attenzione che cosa sceglie? allora l'oggetto della scelta è la causa del rapporto che si viene a creare tra pubblica amministrazione e terzo settore se quindi la causa è l'esternalizzazione di un compito non dobbiamo avere dubbi dobbiamo entrare dentro gli strumenti del codice dei contratti pubblici ma tutte le volte in cui invece noi ci rivolgiamo non ad un bisogno della pubblica amministrazione cioè per fare un esempio banale centri estivi io ho bisogno di risolvermi un problema e così se lo risolvo a me è comune lo risolvo alle famiglie quindi faccio un appalto di servizi appalto innovativo quello è un servizio strumentale perché attraverso quel servizio io risolvo un problema dell'ente è chiaro questo concetto non vi chiedo l'entusiasmo datemi un cenno con la mano perché questo è fondamentale se invece io utilizzo gli strumenti del codice del terzo settore cioè espressione dell'amministrazione condivisa in realtà noi stiamo creando un'attività di interesse generale che cos'è l'attività di interesse generale? una cosa banale però guardate che questa è la prova del 9 se noi stiamo facendo correttamente coprogrammazione o coprogettazione cioè io risolvo un problema della comunità e lo facciamo insieme quindi il fine della collaborazione la comunanza di scopo non è risolvere un problema all'ente la gestione del parcheggio ma insieme troviamo la soluzione migliore della comunità ecco perché è un salto completamente opposto dal fare un appalto di servizi servizio strumentale dell'ente alla creare attraverso la collaborazione un'attività di interesse generale cioè parte pubblica e terzo settore insieme cooperano nell'interesse di un altro soggetto la comunità vedete come ritorna straordinariamente io mi verrebbe da dire mi eccito intellettualmente a ritornare all'articolo 3 del testo unico degli enti locali è tutto lì cioè noi insieme mettiamo la stessa maglia chiamata interesse generale poi la pubblica amministrazione avrà il numero 10 il terzo settore sarà una fascia sarà il portiere sarà Don Marum non lo so ma entrambi però giochiamo insieme per fare gol e il gol è fare gol per la comunità guardate che è tutto lì quindi questo diventerà nei prossimi mesi nei prossimi anni la prova del 9 se stiamo facendo una genuina coprogrammazione una genuina coprogettazione Antonio cioè è la prova del 9 non ci vuole il CIG non ci vuole il CIG il CUP la fattura queste menate qui noi dobbiamo partire dicono le linee guida davvero dalla causa del rapporto dalla causa del rapporto è un matrimonio di interessi o un matrimonio d'amore è un matrimonio di interessi c'è un appalto dove per un certo tempo ognuno trova una sua convenienza o è un matrimonio d'amore matrimonio d'amore significa vogliamo stare insieme non siamo obbligati a fare una coprogrammazione una coprogettazione perché lo facciamo lo facciamo perché insieme mettiamo in essere quello che prima non esiste che è un'attività di interesse generale ma la facciamo rivolta alla comunità è chiaro questo concetto Sara prendo prendo te se mi autorizzi a dare tu come Antonio come test dell'aula perché non voglio essere autoreferenziale se non sono chiaro io resto fino a stanotte qui perché se capiamo questo tutti insieme cari amici collegati abbiamo svoltato il nostro tornante interpretativo lo abbiamo superato con scioltezza perché poi sarà un gioco da ragazzi capire coprogrammazione coprogettazione social bonus valorizzazione di beni perché abbiamo capito l'innesco l'innesto l'innesto è la causa comune insieme facciamo un qualcosa per la comunità quindi anche rivedere le scelte fatte prima cioè era un appalto non ci piace più l'appalto perché in realtà insieme vogliamo scendere in campo per risolvere il problema della comunità quindi anche le scelte diverse gestionali era un appalto prendiamo la coprogettazione un passaggio conseguente che le linee guida enfatizzano è proprio questo premessa l'opzione politica quindi premessa che è una scelta guardate che dicono le linee guida caro terzo settore non solo tu devi essere coinvolto attivamente dalla pubblica amministrazione quindi principio di sussidiarietà orizzontale non come supplenza ma come autentica collaborazione ma anche tu ente di terzo settore oggi hai l'iniziativa quindi sono strumenti a disposizione anche dell'ente di terzo settore quindi il procedimento amministrativo non è solo ad iniziativa pubblica ma è anche iniziativa privata quindi sono strumenti che utilizziamo per tutte le 26 attività di interesse generale dell'articolo 5 dobbiamo evidentemente rispettare l'evidenza pubblica ma l'iniziativa spetta anche gli enti di terzo settore e qui caro Antonio cari amici collegati c'è semmai non come c'è nel ristorante di sushi l'agrodolce che ci piace ma c'è un agrodolce che non ci piace cioè prendere atto che questa parte della riforma non è stata non solo applicata caro Antonio ma neppure capita in Italia noi in Italia non abbiamo l'utilizzo da parte degli enti di terzo settore di questi strumenti noi dal 3 luglio 2017 potremmo avere procedimenti ad iniziativa del terzo settore e allora qui subito un anticipo di un tema il tema si chiama evidenza pubblica il codice del terzo settore è una casa di vetro tutto si svolge nel rispetto dell'evidenza pubblica ma anche qui Antonio si impone una immediata chiarificazione di questo totem di questo moloch di questo strano figuro non so se vi ricordate i film di Massimo Troisi in un bellissimo film con lei Lorena faceva riferimento ad un animale inventato il cosiddetto minollo era un animale inventato il minollo ecco l'evidenza pubblica sta diventando un minollo un mostro che viene utilizzato per spaventarci che cos'è l'evidenza pubblica è una cosa banalissima non dobbiamo aver paura dell'evidenza pubblica non dobbiamo aver paura del procedimento amministrativo non dobbiamo aver paura del diritto del terzo settore come diritto buono anzi l'evidenza pubblica Antonio io la traduco così è semplicemente dare evidenza al pubblico delle ragioni della scelta perché io dico sia un progetto perché io do un contributo all'associazione Alfa perché io do un bene pubblico dieci anni per un progetto di utilità sociale devo dare conto al pubblico evidenza pubblica evidenza al pubblico delle ragioni del mio potere pubblico delle ragioni dell'uso del mio denaro pubblico delle ragioni dei beni pubblici vedete come tutto torna spero Steve Jobs unisce i puntini e forse alla fine alle 19 meno due minuti stasera vedremo la figura perché io devo dare conto dell'esercizio del mio potere articolo 3,5 del testo unico degli enti locali e allora è tutto lì caro Antonio cari amici collegati se la pubblica amministrazione usa il potere dell'amministrazione condivisa usa il diritto buono del diritto del terzo settore un nuovo diritto che è un diritto costituzionale del terzo settore è un diritto amministrativo del terzo settore ci sarà il diritto civile del terzo settore ci sarà il diritto tributario del terzo settore quando usa l'amministrazione condivisa la pubblica amministrazione esercita potere pubblico ma l'esercita in forma gentile l'esercita con un volto nuovo non è il volto dell'amministrazione regolatoria non è il volto di un'amministrazione unilaterale non è il volto di un'amministrazione sanzionatoria è il volto di un'amministrazione che chiede non supplenza ma chiede al terzo settore di farlo insieme cambia quindi il volto del potere l'amministrazione condivisa non significa abdicare al proprio potere significa esercitarlo in modo diverso significa cambiare modalità di relazione tra pubblica amministrazione e cittadini singoli associati ritorna all'articolo 1 della 241 del 90 modificata nel 2020 la pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e con i privati usa due ingredienti in questa ricetta magica due ingredienti che sono a buona fede e collaborazione il principio della buona fede il principio della collaborazione e allora credo che queste parti delle linee guida meritino un approfondimento anche nel nostro istituto Antonio della coprogrammazione rifaccio i passaggi uno l'opzione politica a monte è di attivare un rapporto di collaborazione quindi autentica due attenzione questi strumenti possono essere utilizzati in tutte le attività di interesse generale due a iniziativa di parte privata quindi una coprogrammazione può partire Antonio da una proposta di enti di terzo settore virgola singoli associati purtroppo devo prendere atto in Italia che mancano all'appello diffuse virtuose e utili iniziative del privato sociale voglio prevenire subito la vostra domanda sì ma noi molte volte facciamo o abbiamo visto iniziative non è quella a cui si riferisce il codice del terzo settore gli istituti a cui ci riferiamo noi attivano procedimenti amministrativi quindi formalizziamo proposte non una paginetta per dire perché non mi attivi un tavolo di coprogrammazione Antonio ma significa elaborare una richiesta motivata articolata di un tavolo di coprogrammazione ma prima di arrivare evidentemente a questi nostri istituti fatemi indugiare un attimo sull'ambito soggettivo le linee guida spero tratteggiano in modo chiaro ed efficace l'ambito soggettivo del codice del terzo settore in realtà noi dovremmo dire ambito soggettivo al plurale perché il primo ambito soggettivo è i soggetti destinatari del codice quindi quali soggetti possono applicare il codice il secondo ambito soggettivo è i destinatari delle attività di interesse generale la faccio breve la faccio semplice a chi si applica il codice in primo luogo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al 165 del 2021 quindi sostanzialmente quasi tutti stato entità statali regioni entità regionali comuni enti pubblici scuole IACP ALER TARVENETO società in house che vengono considerate amministrazioni pubbliche di 165 consorzi consorzi di comuni quindi sostanzialmente abbiamo una platea amplissima di soggetti riconducibili alle pubbliche amministrazioni che tra virgolette possono applicare il codice dall'altro lato chi sono i soggetti che possono beneficiare dell'applicazione del codice non vi è dubbio articolo 4 del codice gli enti di terzo settore quindi a breve gli enti che entreranno nel registro unico qui si impone Antonio una domanda centralissima urgente per non farsi trovare impreparati tra tre mesi sei mesi un anno come la pubblica amministrazione avrà rapporti con quei soggetti che pur appartenendo al mondo del terzo settore non sono enti di terzo settore in senso proprio ci dobbiamo fare due domande cari amici collegate ci dobbiamo fare due domande uno può una pubblica amministrazione riservare ad un soggetto associazione non riconosciuta enti filantropico fondazione fondazione di partecipazione non enti di terzo settore una forma di sostegno può negare deve negare una forma di sostegno la risposta è evidentemente no la pubblica amministrazione nell'esercizio della sua discrezionalità potrà mantenere forme di sostegno in favore di questi soggetti ma la seconda domanda è può riservare questi soggetti lo stesso trattamento che deve prioritariamente riservare agli enti di terzo settore la risposta è no quindi gli enti di terzo settore sono soggetti da preferire per le ragioni che ho detto finora quindi gli istituti del codice del terzo settore compreso l'istituto alla coprogrammazione sulla quale lavoreremo settimana prossima sono strumenti ad appannaggio degli enti di terzo settore in senso proprio quindi in via di principio io non posso utilizzare questi strumenti coprogrammazione e coprogettazione tanto per fare un esempio in favore di soggetti diversi dagli enti di terzo settore questo è un tema questo si porta dietro una seconda conseguenza quando parliamo di ambito soggettivo le linee guida dicono che noi applichiamo i principi generali quali sono i principi e qui noi abbiamo una norma di riferimento vi consiglio di stamparla di metterla sulla scrivania di metterla sul desktop di mettere di fronte alla camera fatene l'uso che volete ma stampatevi l'articolo 55 primo comma del codice del terzo settore perché perché lì dentro noi troviamo i principi fondamentali nell'utilizzare tutti gli strumenti del titolo settimo coprogrammazione coprogettazione accreditamento convenzione eccetera 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 fra questi principi noi troviamo tre principi fondamentali uno i principi della 241 quindi i principi del giusto procedimento amministrativo quindi attenzione è roba seria cioè noi mettiamo mano ad un procedimento amministrativo secondo principio clou che ci porta nel tema della coprogrammazione applichiamo la disciplina di settore quindi in primo luogo la legge tre quindi in che modo dobbiamo lavorare lo faremo settimana prossima così Antonio crea un po' di suspense e i 53 valorosi che già sono diminuiti il peso fisiologico qualcuno ha sfruttato la pausa per scapparsene e hanno ragione e hanno ragione però voi 53 settimana prossima vi voglio tutti perché vi offrirò un aperitivo telematico quindi alle 19 0 un minuto della prossima settimana gusteremo insieme un metaforico e telematico spritz molto alcolico quindi vi aspetto tutti non potete mancare ma ritorno in me al punto di adesso attenzione legge tre 2008 in che modo la disciplina di settore speciale si coordina con la coprogrammazione per esempio terzo principio siamo quindi principio articolo 55 comma 1 principio di autonomia organizzativa e regolamentare guardate che il codice del terzo settore non atterra sulla terra come atterrerà eh lo shuttle di Bezos da Marte sulla terra ma atterra su ogni amministrazione pubblica intanto sulla base dell'organizzazione di ogni organizzazione quindi sono un consorzio di comuni sono un'azienda speciale sono un'unione di comuni sono una città metropolitana sono un comune grande sono un in house sono un ente pubblico ebbene il codice del terzo settore declinerà su di me sulla base dell'organizzazione che mi è propria uno due fondamentale principio di autonomia regolamentare questo significa che noi possiamo declinare l'amministrazione condivisa nei nostri regolamenti nei regolamenti esistenti ma anche soprattutto nei nuovi regolamenti che noi possiamo e dobbiamo scrivere a quali regolamenti faccio riferimento non vi è dubbio al regolamento sui procedimenti amministrativi ai regolamenti sui contributi ai regolamenti ove esistenti sui rapporti con il terzo settore ai regolamenti sull'utilizzo dei beni pubblici ai regolamenti sulla partecipazione ove esistenti quindi la prima operazione da fare è anche vedere come siamo messi con i regolamenti perché l'articolo 55 primo comma del coce del terzo settore ci chiede di non chiedimi se sono felice chiediti se hai voglia di declinare questi istituti nella tua organizzazione e lo fai con una cornice generale da stratta quindi nel tuo regolamento oppure addirittura come tantissime entità in Italia con grande piacere invece sto vedendo stanno recuperando questo gap stanno scrivendo regolamenti generali sul rapporto tra l'apia di identità del terzo settore salutiamo Flavia Bigoni che forse ci dice una bugia bianca che deve andare in una riunione secondo me non ne poteva più verificheremo con i potenti mezzi contro la private se è veramente andato in una riunione ma soprattutto la vogliamo settimana prossima dall'inizio alle 19.01 quando brinderemo la liberazione vostra con uno spritz telematico dicevo regolamenti che iniziano a comparire in Italia consorsi di comuni l'asile di Modena in Piemonte anche nella stessa Lombardia nelle Marche quindi la via regolamentare come la legge dei comuni come la fonte normativa dei comuni è molto importante perché ovviamente noi lì possiamo scrivere molte cose interessanti possiamo declinare cioè sulla base di come il nostro contesto di riferimento come vogliamo declinare per esempio la coprogrammazione per esempio come ci comportiamo a fronte ad esito di un'iniziativa privata cioè se gli enti di terzo settore mi fanno una proposta di coprogrammazione come la tratto voi capite bene che non è la stessa cosa avere o non avere un regolamento che come regolamentazione generale ed astratta dica ai comuni in che modo comportarmi infine le linee guida entrano dentro i procedimenti dei singoli istituti e chiudono con le misure in materia di trasparenza e di pubblicità chiedo al mio angelo custode a questo punto mi consentirà di aprire poi la parte dialogica il focus sulla coprogrammazione e quindi all'ultima all'altra slide come vedete tre parole tre non sono come quella canzonetta cuore sole ama amore dammi tre parole ma in questo caso sono tre parole invece più impegnative più importanti che sono finalità contenute procedimenti ecco qui credo che Antonio possiamo iniziare verso la discussione e che ci tornerà utile per la seconda giornata e unendo per avere poi una figura complessiva con gli apporti dell'amico Riccardo di Andrea e dell'altra collega Giulia se non ricordo male cioè la finalità della coprogrammazione prima di scendere nel dettaglio i contenuti le procedure e viverla dall'eguleo cioè viverla come questione amministrativa viverla come procedura viverla come gabbia viverla Antonio come forma viverla come adempimento viverla come rapporto con il piano di zona noi dobbiamo partire dalle finalità qual è il mestiere della coprogrammazione e sono davvero contento di fare questo percorso insieme a voi perché è uno dei pochi in Italia che si sta ponendo queste domande in Italia lo conto veramente sulle punta delle dita Anci Lombardia CSV e Forum voi e Mark ad oggi registro queste tre prime iniziative a breve sarà costruito un accordo tra il Ministero del Lavoro e Anci Nazionale sarà costruita una esperienza formativa vediamo in che termini ma ad oggi siamo qui quindi sono davvero onorato con voi ci facciamo in anteprima in Italia veramente tra pochissimi queste domande allora oggi dobbiamo chiudere però il primo tema oggi dobbiamo smarcare davvero la prima questione qual è il mestiere davvero della coprogrammazione perché vi prego di non pensare welfare centrici guardate che questi strumenti nel codice del terzo settore esorbitano vanno esorbitano a proposito di orbite di Bezos di Marte esorbitano da quel pezzettino di terra che noi conoscevamo essere il welfare invece vanno in orbita in tutte le 26 attività di interesse generale quindi la coprogrammazione non è lo dico subito l'automatica fotocopia del piano di zona non è la supplenza del piano di zona ma noi dobbiamo pensare a questo istituto Antonio cari amici collegati Sara come istituto generale fra tutte le attività di interesse generale del codice del terzo settore quindi qual è il mestiere della coprogrammazione ma ce l'ha detto chiaramente la corte costituzionale con la sentenza 131 noi dobbiamo andare a prendere quel pezzo della sentenza stamparlo e copiarlo e incollare nei nostri provvedimenti nei nostri avvisi di coprogrammazione sostanzialmente sostanzialmente fare anche qui un lavoro insieme quella comunanza di scopo quelli di vorgerci alla comunità di riferimento guardate che semplice ma non è un rito non è una forma non è la gabbia della procedura non è questo io vorrei Antonio che alla fine di questo nostro percorso alla fine rimanesse un ricordo gentile un ricordo di questo diritto buono di questo diritto che non è forma procedura legulei ma è metodologia e ingaggio qual è il vero ingaggio è fare insieme il primo mestiere coprogrammazione cioè le linee guida nelle linee guida abbiamo provato a dire è un'istruttoria partecipata e condivisa è un'istruttoria è un'istruttoria che cosa significa dire istruttoria condivisa e partecipata io mi assumo la responsabilità anche di alcune cose scritte in quelle linee guida ci metto la faccia perché quella parte come dire ha avuto nella bozza iniziale appunto una paternità allora io credo che il ministero prima ma poi nell'intesa nel lavoro finale sia stata condivisa questa prima traccia l'istruttoria condivisa come collaborazione non significa confusione non significa codecidere non significa darsi le pacche sulle spalle e scimmiottare la pubblica amministrazione una vicinanza al terzo settore come se sfumassero le differenze anche di ruolo e di postura dall'altro lato l'ente di terzo settore che pensa di diventare pubblica amministrazione non è non è questo la coprogrammazione è un'istruttoria che fa rimanere in capo alla pubblica amministrazione il diritto il potere di decidere ma ancora una volta se la pubblica amministrazione assume come metodologia della propria istruttoria assume il meccanismo dell'amministrazione condivisa che è figlio del principio di sussidiarietà orizzontale ecco che quel potere che è e resta potere pubblico cambia volto è un potere gentile è un potere non autoreferenziale non è un potere unidirezionale non è un potere autoritativo non è un potere regolatorio ma è un'istruttoria che aiuta la pubblica amministrazione a meglio decidere nell'interesse della comunità quindi la coprogrammazione è un istituto generale che noi possiamo mettere dalla sanità alla sociale alla riqualificazione dei beni all'agricoltura sociale all'alloggio sociale a tutte le attività di interesse generale comprese anche l'inserimento lavorativo come base della decisione finale mi fermo su questo primo elemento Antonio prima di andare sui procedimenti che cosa significa istruttori partecipate nelle linee guida credo e spero che questo messaggio sia stato chiarito non si vince nulla si partecipa al tavolo di coprogrammazione non per vincere un appalto o una coprogettazione non per consolidare un interesse di parte anche della stessa amministrazione pubblica ma si sta al tavolo condividendo le fatiche di quel tavolo io non voglio negarmi Antonio le fatiche di un tavolo di coprogrammazione le insidie prima delle opportunità si coopera per fare quello che la pubblica amministrazione normalmente fa a casa sua da sola la lettura dei bisogni l'individuazione delle possibili soluzioni l'individuazione delle possibili risorse di norma la pubblica amministrazione fa i suoi piani i programmi fa le scelte politiche fa il bilancio e usa le risorse per mettere poi in atto le politiche e quindi evidentemente sceglie gli strumenti che essa ritiene essere i migliori quindi un appalto e dentro la famiglia degli appalti magari una gara riservata pensata all'inserimento lavorativo 112 di circosti dei contratti pubblici una gara di tipo B oppure una gara riservata 143 oppure anni fa al Comune di Bologna facemmo una gara 20 milioni di euro sulla grave marginalità adulta era un importantissimo servizio perché unità di strada vicino la stazione era importante prezzo bloccato offerta economicamente più vantaggiosa cioè non si accettarono ribassi non vennero chiesti ribassi la competizione fu solo sulla qualità perché era un servizio fondamentale per la città ma attenzione la coprogrammazione come strumento generale apre la pubblica amministrazione e va a combattere il primo grande elemento che è quello dell'autoreferenzialità la coprogrammazione come metodologia non vi parlerò di procedura chiede alla pubblica amministrazione di non farsi da sola le domande di costruirsi le proprie politiche e quindi altro che solo piano di zona Antonio io lo vorrò utilizzare riprendere il tema piano di zona nella prossima puntata ma oggi voglio chiudere per aprire il dibattito attenzione ancora sul piano generale superficiale come metodologia nuova di fare le politiche attenzione siamo ancora ex ante siamo nella fase di costruzione delle politiche quindi lo faccio sulla base dell'apporto di conoscenza che il terzo settore mi dà quindi vedete quel principio di sussidiarietà non è supplenza è collaborazione cioè aiutiamoci a farlo meglio lo voglio dire con grande sincerità il codice del terzo settore parla di bisogni articolo 55 comma 2 lettura dei bisogni io ovviamente sarei stato contentissimo se nelle le uniche da noi avessimo enfatizzato molto non solo bisogni ma anche altre cose purtroppo ovviamente non è stato possibile perché è il codice a centrare tutto sui bisogni lettura dei bisogni ma ovviamente noi siamo liberi di dire che non solo la coprogrammazione è finalizzata alla lettura dei bisogni ma io dico all'immateriale all'intangibile al tangibile alle risorse alle opportunità ai talenti a tutto ciò che la comunità esprime quindi la coprogrammazione come istruttore partecipata di tutto ciò che ci può servire da rimettere in circolo per la nostra comunità quindi le linee guida purtroppo non hanno potuto enfatizzare anche un concetto che andasse oltre il concetto basico di bisogni ma a noi voglio dire non vieta nessuno nessuna norma quando facciamo l'avviso di coprogrammazione di estendere anche ad un concetto più esteso di bisogni ma lo capite bene perché devo andare alla conclusione perché sto perdendo tempo e il dibattito voglio che che si faccia quindi a costo di riprendere dei concetti è evidente che qui chiedo al mio angelo custode di andare cosa ci portiamo a casa con la prossima slide cioè vorrei concludere con queste ed aprire la discussione per riprendere poi dei concetti Antonio nella prossima puntata assolutamente non voglio neppure stressare il dibattito cioè qual è un tentativo di avvicinarci alla coprogrammazione intanto quello di dire che con la coprogrammazione articolo 55,2 noi sposiamo il principio di integrazione cioè noi possiamo mettere insieme sociale e agricoltura housing sociale valorizzazione di beni e social PEBA piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche chi ci vieta di fare una coprogrammazione prima di un PEBA oppure facciamo il PEBA anche ai sensi per gli effetti dell'articolo 55 comma 2 del codice del terzo settore cioè noi per la prima volta molto facilmente possiamo fare integrazione delle politiche e degli interessi banalmente con un miracolo giuridico chiamato coprogrammazione 2 abbiamo detto che è una metodologia diffidata dalle gulei che vi dicano che deve essere fatta così con questo procedimento è una metodologia quindi risponderà alla sensibilità risponderà alla storia risponderà alla voglia dell'amministrazione pubblica che deciderà come applicare quella metodologia che cosa significa questo significa tipicità non esiste un modello di coprogrammazione ci possono essere 50 sfumature non di grigio 50 sfumature di coprogrammazione quindi la metodologia la possiamo applicare in base alle materie quindi anche all'esistenza delle leggi settoriali che mi dicono sul sociale come deve essere eventualmente fatta ma se facciamo valorizzazione di beni culturali attraverso la coprogrammazione ragioneremo anche in modo diverso ma soprattutto la tipicità significa anche che noi non siamo condannati necessariamente a fare n avvisi pubblici di coprogrammazione chi ci vieta di fare rispettando l'evidenza pubblica un luogo una sede permanente di coprogrammazione articolata in sottosedi la norma ce lo vieta assolutamente no con il comune di Brescia tentammo di creare nel regolamento che poi non è stato approvato il comitato di indirizzo del welfare come sete stabile per esempio dalla coprogrammazione voi pensate in un comune piccolo per quale motivo io il terzo settore che è strutturale vive insieme a me non possa essere considerato il nocciolo duro di un tavolo di coprogrammazione permanente la multidimensionalità non vi è dubbio che questa metodologia ingaggia la dimensione politica e la dimensione tecnica amministrativa perché non vi è dubbio che evidentemente io posso modificare gli strumenti di programmazione dell'ente anche grazie a tavoli di coprogrammazione DUP documento di programmazione PEG bilancio programma biennale dei servizi programma di utilizzo delle valorizzazioni e così continuando ma anche nell'urbanistica mi è ben chiara la vostra legge regionale sul governo del territorio se non sbaglio la legge 12 ma chi ci vieta di fare che una variante al PGT o un nuovo PGT nasca anche con il lavoro positivo di un tavolo di coprogrammazione che quindi faccia vedere agli occhi del pianificatore del governo del territorio gli apporti di conoscenza che servono per una comunità oggi si dice va di moda resiliente eccetera eccetera ma poi ovviamente iniziativa pubblica e di parte l'abbiamo ribadito i tavoli di coprogrammazione possono partire anche sull'impulso degli enti di terzo settore enti di terzo settore caro dove siete vi siete nascosti siete diventati timidi non sapete a quale porto bussare è davvero bizzarro che quando hai la ricchezza degli strumenti non li utilizzi in Calabria si dice che l'abbondanza è come la carestia ovviamente nella nel linguaggio nel dialetto Calabro ma è così quando sei ricco a volte funziona lo stesso modo di quando sei povero non sai cosa mangiare quando da studente aprivi il frigorifero ti ricordavi che avevi solo una scatoletta di tonno e la pasta e quindi mangiavi pasta e tonno ecco a volte quando sei molto ricco non ti rendi conto della ricchezza di uno strumento a portata di mano che costa poco per la pubblica europea approvati i regolamenti sull'fse l'fse plus e ci dicono articolo 14 azioni sociali innovative fatelo con i parternariati possibilmente dal basso e fatelo articolo 17 per fissare degli indicatori e poi li rendi contate anche lo stesso pnrr è legato alle condizionalità quei quattrini sono in funzione dell'impatto cioè dei risultati raggiunti e allora la coprogrammazione a questa altra missione caro Antonio cari amici collegati cioè dirci insieme nel preparare le scelte future quello che sarà un po' più effettivo quindi vedete l'effettività anche della della politica perché se me lo dice tutto il terzo settore che quel bene pubblico inutilizzato forse la scelta migliore è dare una vita come teatro piuttosto che come ristorante sociale piuttosto che come un'altra cosa evidentemente quell'impatto sarà un impatto più irraggiungibile e allora la coprogrammazione così intesa mette in atto il volto buono del diritto del terzo settore sicuramente le fatiche fare coprogrammazione significa ascoltare significa avere tempo per ascoltare significa avere persone capaci di ascoltare quindi o in casa oppure reperendola all'esterno facilitatori ma significa ascoltare significa le fatiche anche di non ascoltare terzo settore che non ha nulla da dire terzo settore che non partecipa terzo settore che partecipa e dice sciocchezze si verbalizza tutto cari amici questa è una fatica amministrativa queste sono verità scomode la coprogrammazione è performante altro che piano della performance la coprogrammazione ci costringe a mettere nero su bianco le cose anche scomode ma c'ha le opportunità perché attraverso la coprogrammazione in funzione della valorizzazione dei beni della valorizzazione dei beni culturali del patrimonio dell'urbanistica noi possiamo sapere in tempo che abbiamo risorse abbiamo rete abbiamo opportunità abbiamo connessione e so pensate al tema adesso degli sfratti pensate quante cose insieme si potrebbero fare non nel verticalismo della pubblica amministrazione ovviamente collaborazione attraverso la coprogrammazione che non è più solo a mera partecipazione vi ricordate la partecipazione civica per esempio con le osservazioni al PGT il Consiglio di Stato ci ha insegnato apporti collaborativi posso fare anche una pernacchia tanto come dire ho fatto il mio dovere pubblica amministrazione vado in Consiglio Comunale l'apporto conoscitivo chi se ne ha fatto non lo voglio minimamente considerare attenzione qui invece è una cosa diversa che questo apporto è un collaborativo questo apporto collaborativo è qualcosa di più serio perché mi può aiutare nella 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 decisione ovviamente chiudo oltre che cultura e postura della coprogrammazione il diritto dell'errare cioè errare non errore errare cioè vagare vagare nel tempo quindi metto in atto una coprogrammazione nella certezza che non ho la certezza di quello che porterò a casa ma qui il tema finale qui chiudo nel possiamo anche chiudere la presentazione perché altrimenti rende difficoltoso anche da parte vostra il vederci anche se non c'è un bel vedere attenzione come si chiude il procedimento di coprogrammazione poi lo riprenderemo settimana prossima scandagliato nel rapporto con il piano di zona in tutti gli altri procedimenti però lo voglio anticipare subito Antonio aprendo il dibattito tra di noi la coprogrammazione se un istruttore è partecipata non è co-decisione quindi la pubblica amministrazione non ha il dovere di recepire tutti gli input che vengono alla coprogrammazione ha il dovere di motivare sulle ragioni per le quali mi discosto da quegli apporti perché se credo nell'amministrazione condivisa evidentemente non ho fatto perdere tempo agli enti di terzo settore non li prendo in giro non li posso più prendere in giro quindi è un rito nel senso nobile del termo nel senso nobile del termine allora nelle mie guide abbiamo scritto anche questo che cosa fa la pubblica amministrazione raccoglie gli esiti fa un documento finale lo porta alla politica e la politica sceglie vedete ancora una volta che questi strumenti possono avvicinare i consociati alla pubblica amministrazione questi strumenti fanno riemergere anche la dimensione politica quindi la decisione della scelta politica non c'è un obbligo di dire di sì agli apporti del terzo settore ma c'è l'opportunità di costruire la decisione più efficace una decisione che forse ha maggiori chance di impatto e quindi sostanzialmente la decisione come l'apertura del procedimento di coprogrammazione è una decisione della pubblica amministrazione come vedete non cambia il potere il potere resta della pubblica amministrazione il diritto potere delle scelte ma cambia in modo irrimediabile il volto di quel potere quindi se io dico di aver voluto una coprogrammazione non me la cavo con un rigo lapidario sugli esiti di quella coprogrammazione ma devo motivare e quindi se io faccio uso cattivo del mio potere amministrativo il mio provvedimento la scelta per essere chiari il terzo settore mi dice che potremmo fare una coprogettazione sul dopo di noi fighissima perché abbiamo reti abbiamo risorse che cosa fa il comune che cosa fa l'ambito il nuovo appalto come da dieci anni fa ebbene questo provvedimento rischia anche di andare al TAR perché se non c'è scritto nulla sugli apporti collaborativi fondati del terzo settore quel provvedimento cioè la determina a contrata l'articolo 32 che avvia una gara d'appalto può essere impugnato cari amici può essere impugnato quindi sono procedimenti seri sono roba seria perché ovviamente se io credo nell'amministrazione condivisa ci devo credere fino in fondo non nel nel dovere di dire di sì ma nel dovere di considerare davvero questi strumenti settimana prossima in realtà io vorrei coccolarle insieme a voi sulle reali opportunità perché sono convinto Antonio che se noi li utilizzeremo in modo virtuoso in modo genuino senza spaventarci della forma delle procedure io credo che nel tempo cambierà il modo di essere amministrazione il modo di fare amministrazione il modo di pensare il modo di relazionarsi all'esterno e di relazionarsi agli enti di terzo settore perché a quel punto se insieme ci faremo le domande di che cosa ha bisogno la nostra comunità io sono convinto che insieme troveremo soluzioni più soddisfacenti e soprattutto costruiremo politiche più contivise io mi fermo immediatamente perché Antonio chi dice complimenti in realtà è preso dalla fatica perché è semplicemente liberatoria non ci credo invece Antonio ti prego riprendi tu le fila di questa prima puntata mi rendo conto per voi molto faticosa e avviamo un dialogo fra di noi ma allora riprendere le fila non è semplicissimo parlare dopo di te Luciano ma diciamo trovo prezioso nel senso nel senso che noi parlo dei comuni insomma venendo dai comuni siamo spesso alla lettura come commentavo poco fa del singolo articolo se non del pezzettino di un articolo perché facciamo fatica a arrivare in fondo al singolo articolo quindi un inquadramento più ampio e trasversale che ci porti non solo al ragionamento sociale ma al ragionamento giuridico per andare ad un'espressione che mi ricordo impressionò in università molto prezioso poi tu hai messo molta carne al fuoco dal punto di vista proprio del come approcciare il nostro lavoro credo con sollecitazioni importanti ma anche sfide sia per il lato pubblico che per il terzo settore indubbiamente anche faticoso cioè nel senso che proprio hai ragione tua anche da seguire elaborare pensare e spaventa anche un po' ma nel contempo secondo me anche entusiasmante insomma diciamo così non so se nella platea di sicuro ci sono persone che conosco con fervide idee generalmente e spero che vogliano dirci qualcosa ma io in attesa dello spritz per cui mi prenoto avevo da dire un paio di cose allora il fatto di avere fatto nella prima vita professionale diciamo l'amministratore di cooperativi sociali di medie grandi dimensioni mi porta a dire alcune cose con una credo consapevolezza su quelle che sono le questioni dal mio punto di vista centrali ringrazio Gallo l'avevo solo letto qua e là in un paio di pubblicazioni appunto quando facevo il cooperatore che aveva fatto con l'avvocato Moro e l'avvocato Coppetti vabbè in un caso anche un amico peraltro e devo dire che è stato veramente illuminante illuminante ma io la traduzco così cioè innanzitutto sto apprezzando questo percorso dal primo incontro e attenzione visione le nostre solite questioni delle politiche sociali adesso stiamo cominciando a approfondire una materia magari per noi mediamente ostica e poi vedremo cosa faremo nei prossimi passaggi questo per dire che cosa che oggi si rende in maniera plastica ci rendono in maniera plastica tre questioni che dal mio punto di vista però sono emerse già nei primi quattro incontri cioè noi abbiamo queste tre cose da gestire da monitorare il fatto che non abbiamo delle identità forti attenzione cioè il discorso di Gallo presuppone che ci siano delle identità forti noi siamo al 35-40% se va bene mediamente sto parlando non do giudizi degli altri ma parlo di quello che vedo io nel mondo della pubblica amministrazione e nel mondo delle cooperative sociali o delle associazioni c'è ancora un bel percorso da fare secondo punto servono dei percorsi veri non finti cioè il presupposto di Gallo ci dice ragazzi cioè tiratevi insieme perché altrimenti fate un po' di confusione ripeto sto parlando di me terzo punto assoluto rigore cioè io se vado via stasera con un principio che mi piace in genere che vuol dire anche confrontarci in maniera aspra a volte lo si fa perché serve rigore se vogliamo fare le cose seriamente altrimenti vabbè abbiamo passato due ore è anche piacevole dal punto di vista chiamiamolo culturale ascoltare una persona come Luciano Gallo però domani mattina vabbè torno a fare funzioni a rietto dell'ente pubblico e buonanotte è chiaro che noi non vogliamo fare questo vogliamo fare un percorso serio quindi il mio ragionamento un po' retorico per dire che per dire tre cose che servono diciamo per avere identità forti percorsi veri e rigore in realtà serve innanzitutto che ci sia un percorso sulle filiere cioè le filiere del terzo settore e le filiere della pubblica amministrazione sono variegate anche solo a livello locale quindi non stiamo facendo il ragionamento che può fare Gallo con la visione nazionale facciamolo a livello locale e proviamo a capire che cacchio vuol dire questa roba qua perché a casa mia il segretario comunale non so se c'è qualcuno spero di sì stasera ma forse no il tecnico dei servizi sociali o che bella novità non parliamo solo di sociale parliamo anche di altro ok e chi ha la leva politica cioè l'amministratore sono tre come dire elementi della pubblica amministrazione che bisogna tenere insieme che non è scontato che stiano insieme se ragiono dentro la pubblica amministrazione se ragiono pensando al terzo settore e chiudo per non rubare spazio ad altri credo credo che ci debba essere ci debba essere una chiarezza all'interno della filiera dicendo anche che il tema della coprogrammazione o la coprogettazione o entrambe sono cose diverse nel momento in cui parliamo senza avere paura di dirlo di volumi diversi ok volumi soldi allora un conto è parlare di questo tema se ragioniamo di uno sviluppo territoriale in cui una piccola associazione fa un percorso virtuoso di partecipazione civica l'ha detto bene Gallo all'inizio mi sembra di ricordare altra cosa è se stiamo parlando di come dire gare d'appalto cioè ok stiamo parlando di cose diverse cioè stiamo attenti a non fare casino ecco io dico per me non dico Gallo è stato chiarissimo parlo per me ecco quindi ringrazio veramente perché ci dà degli input importanti che io credo insieme anche ad altri colleghi degli uffici di piano cercheremo presumo di inserire dentro questo percorso che ha credo piano piano la possibilità di crescere e di darci magari anche degli strumenti in più rispetto a quelli che non avevamo fino a prima di questo di questo percorso grazie ancora e aspetto lo spritz ovviamente però settimana prossima cos'è? 7-8 luglio no in 14 mi dirò già sbagliato sono io che la ringrazio tra l'altro poi lucidissimo intervento che sottoscrivo dall'A alla Z e poi ho citato due cari amici appunto Aldo Pietro Aldo Coppetti e Pietro Amoro quindi grazie io invito a fare intervento so che siete stanchi ma questo argomento della coprogrammazione non può lasciare indifferente c'è una bellissima canzone di Lucio Dalla dice canzone dice se resta indifferente non è lei no la canzone non può lasciare indifferente è una bella canzone la coprogrammazione che non è stata capita non è stata percepita non può lasciare indifferente quindi se così è ho fallito io se però sono arrivato ai vostri cuori adesso connettetelo alla testa dite qualcosa perché questo istituto nel tempo gradualmente può davvero cambiare il modo delle politiche il senso delle politiche e soprattutto l'aggancio tra le comunità e la pubblica amministrazione per fare un esempio così voglio che qualcuno intervenga il paradigma mi faccio il mio DUP mi faccio il mio programma biennale mi faccio il mio bilancio faccio l'appalto viene smontato e invece faccio coprogrammazione faccio anche un nuovo DUP un DUP diverso un bilancio diverso una programmazione biennale diversa che magari può portare ad un appalto ma magari un appalto innovativo quindi c'è un'osmosi positiva tra pubblico e privato sociale quindi prendo un bene bene pubblico utilizzato non so cosa farci lo faccio da un punto di vista amministrativo oppure ascolto il terzo settore che idee avete voi terzo settore e allora piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche variante urbanistica di quali servizi davvero ha bisogno la nostra città cioè che modello di sviluppo urbanistico disegniamo e allora vi chiedo di intervenire per dire alla qualunque ma non non si può rimanere indifferenti rispetto a questo strumento buonasera posso intervenire io buonasera benvenuto io sono presidente di un consorzio di cooperativi sociali ma sono anche un consigliere comunale per cui vedo le cose da questo doppio punto di vista primo sono quello che ha scritto i complimenti e li rinnovo non per chiudere ma sono sinceri complimenti la questione che mi piaceva e che mi è piaciuta molto nel suo intervento è il tema del coprogrammazione è una scelta possibile credo che tante volte c'è stato rimandato o noi stessi ci siamo autodetti che era una scelta non praticabile l'idea che sia praticabile possibile mi sembra un elemento che dobbiamo fare nostro tutti amministratori pubblici enti del terzo settore credo che però ci sia un elemento importante che lei sottolineava cioè l'idea che sia una metodologia quindi non applicabile a giorni alterni o non applicabile solo su alcuni aspetti perché credo come lei citava è importante che ci sia una sorta di reciprocità cioè non è possibile stare solo nei tavoli di coprogrammazione che non sono luoghi di gestione di servizi però è anche importante che ci sia una visione complessiva per cui non si stia solo seduti nei luoghi di coprogettazione di coprogrammazione ma che poi quando c'è da gestire i servizi vengono scelte strade diverse credo che ci siano appalti e appalti appalti virtuosi appalti meno virtuosi serva una un po' scelta di campo da parte dalle pubbliche amministrazioni degli ambiti rispetto a qual è la filosofia che sta dietro qual è la causa per cui scelgo lo strumento e una volta scelta la causa vengo un po' applicata in modo trasversale questo mi sembra un elemento importante per non rendere vuoti o rituali alcuni luoghi perché c'è la consapevolezza che invece poi gli aspetti salienti sono altrove grazie grazie a lei davvero grazie davvero grazie a lei intervengo intervengo io dicendomi un po' quello che condividendo quello che mi porto a casa diciamo una cosa molto molto semplice che però mi è arrivata dritta che è l'opportunità attraverso la coprogrammazione io parlo vengo dal terzo settore di poter valorizzare le capacità e le competenze del terzo settore di portare avanti questa mappatura dei bisogni dei desideri delle aspettative delle opportunità del territorio una mappatura che la pubblica amministrazione non sempre è in grado di fare ad ampio raggio quindi questa la possibilità di valorizzare questa capacità e di condividerla poi ad un tavolo di coprogrammazione anche con altri soggetti del territorio permette anche a noi di superare quella autoreferenzialità nella quale non solo la pubblica amministrazione rischia di scivolare ma molto spesso anche il terzo settore quindi nell'ottica poi di coprogrammare verso una propulsione all'innovatività che è possibile solo attraverso la contaminazione la condivisione e la collaborazione una cosa molto semplice però mi sembra un obiettivo importante da raggiungere con la coprogrammazione grazie Sara che ha posto secondo me con la grazia e il garbo che ha per una questione centrale interna al terzo settore che secondo me insieme alla difficoltà di conoscere la riforma il parere che ha gelato un po' gli entusiasmi su questo istituto secondo me spiegano l'insuccesso non la coprogrammazione non è nella top ten degli strumenti del codice del terzo settore io mi sono sempre fatto la domanda perché io cerco sempre di farmi la domanda del perché delle cose no e vedo anche la paura del terzo settore rispetto a questo strumento cioè stare ad un tavolo insieme agli altri intanto con il dubbio di qual è il confine tra sto al tavolo per portarmi a casa qualcosa per non per giudicare la mia condizione quindi tra virgolette il conflitto di interessi positivo dall'altro lato c'è comunque anche la dimensione competitiva tra il terzo settore cioè io mi sono dato questa spiegazione forse la molla che ha allontanato il terzo settore italiano dalla coprogrammazione e nel aver paura di stare al tavolo condividendo il sapere altrui io non dico le mie cose io non dico cosa penso io non mi gioco le mie carte in trasparenza e quindi è una non competizione sul piano della conoscenza cioè è stata vissuta secondo me in Italia la dimensione competitiva della coprogrammazione allora proprio una mia richiesta nell'eneglio di è stato di depurare di quest'ansia competitiva nella coprogrammazione cioè nella coprogrammazione non si vince nulla nella coprogrammazione però noi qui richiamo uno dei concetti di Gian Antonio Farinotti che secondo me è la stella polare del riferimento è l'identità cioè sostanzialmente tu non devi portare a casa quell'appalto o una coprogettazione cioè tu per il solo fatto di stare al tavolo di coprogrammazione e insieme agli altri e con le amministrazioni costruisci il quadro di riferimento per le politiche future tu stai dimostrando la tua identità tu stai dimostrando la tua legittimazione il terzo settore che partecipa a una gara d'appalto non ha alcuna identità e legittimazione perché al massimo lo può avere in una gara per il cooperativo di tipo B oppure laddove i comuni facessero gare 143 del codice dei contratti pubblici quindi lo stare ad un tavolo e co-costruire insieme il quadro di riferimento dal quale poi saranno costruite le scelte secondo me è quello che è già vincente perché io apporto il mio essere soggetto del territorio la conoscenza del territorio le reti anche immateriale di quel territorio e quindi naturalmente sarà segnato il destino delle scelte di quell'amministrazione cioè non potranno che essere davvero figlie di quella lettura poi potranno magari portare ad un appalto ma quell'appalto credimi non sarà l'appalto che da sola la pubblica amministrazione avrebbe potuto fare perché non è così la pubblica amministrazione non sa fare tutti i mestieri come il terzo settore non sa fare tutti i mestieri anche essere pubblica amministrazione non voglio parlare troppo perché poi voglio riprendere settimana prossima vedo che stiamo colando fisiologicamente è ovviamente legato al fattore tempo al caldo la stanchezza è come nei matrimoni c'è un calo fisiologico in questo caso tu inviti e dici sì sì verremo tutti verremo tutti poi alla fine c'è il 20% di invitati che non si presenta prego Barbara Guerini faceva complimenti ma in realtà era un'uscita mi dispiace io vi chiederei anche anche pensandoci tramite i nostri organizzatori ancora una volta ringrazio Antonio Costantini se anche richieste per la settimana prossima cioè non solo adesso commenti io vi anticipo il trailer del prossimo film non solo coprogrammazione piano di zona Antonio ma la coprogrammazione intorno alla costruzione delle politiche in questo caso anche di ambito che possono prendere la stura dalla coprogrammazione coprogrammazione come una metodologia che noi possiamo applicare vicino al piano di zona ma anche insieme alle altre sedi alle altre opportunità di costruire le nostre politiche perché voglio portarvi delle sollicitazioni anche intorno a coprogettazioni intorno a valorizzazione di beni c'era un purtroppo che ho intuito che Anna Mascheroni purtroppo la paura della concorrenza a volte rende il terzo settore geloso delle proprie idee e a vario di condivisione grazie per il contributo io però dico che Anna umanamente lo capisco ma il sapere è di tutti io ho imparato moltissimo leggendo chi è più bravo di me io ho imparato moltissimo ascoltando gli altri perché quel sapere è diventato anche un po' mio poi ognuno lo rielabora poi secondo me il terzo settore non coglie le opportunità del tavolo cioè se io sto insieme ad altri ci si conosce magari si trovano degli spazi per fare delle cose insieme che da soli noi non potremmo fare quindi pensate alle connessioni che il codice del terzo settore ci chiede housing sociale agricoltura sociale inserimento lavorativo ricerca università valorizzazione di bene valorizzazione di bene culturali cioè noi possiamo andare anche nel nostro oggetto statutario cioè che cosa possiamo fare insieme ad altri fare delle cose telematica quindi tecnologie e sociale cioè valorizzazione di bene culturali anche per finalità sociale comuni di Spoleto prende un bene culturale facciamo un percorso formativo si convincono ma perché lo devo dare proprio in concessione tradizionale prendono il codice del terzo settore è stata la prima esperienza in Italia dal codice del terzo settore attenzione non teatro tascabili Bergamo 151 codice dei contratti pubblici ma è stata la prima esperienza di valorizzazione di un bene culturale pubblico per finalità sociale come dice Sena lo segue dopo quindi anche qui che cosa possiamo fare di nuovo quindi gli strumenti sono solo uno strumento cari amici collegati eh gli strumenti sono solo uno strumento ma lo strumento è potente perché mi può far fare cose nuove vi vedo stanchissimi vi vedo stanchissimi avete ragione magari settimana prossima Antonio possiamo andare molto più diritti prego sì no volevo fare su quali commenti cioè la questione del della condivisione del sapere secondo me è focale ci ho pensato molte volte lavorando in questi anni permettimi di dire Luciano che per quanto non ci conosciamo moltissimo però tu sei una persona questo tema lo incontriamo in tanti settori in tanti soggetti tu sei una persona che condivide il sapere no? cioè non lo trattiene non è faticoso da te avere opinioni punti di vista espansione rispetto a ciò che sai e quindi anche prendere rubarti rubarti cose ed è un modo di rapportarsi agli altri e stare nei discorsi sui tavoli ci sono atteggiamenti come questo invece ci sono atteggiamenti più gelosi e che tendono a non condividere questo lo troviamo dappertutto e lo troviamo anche nei tavoli quando ci sediamo a programmare e coprogrammare io personalmente penso che sia utile mettere insomma qualcuno che c'è qui lo sa insomma a volte però sei anche un po' criticato per questo insomma mettere mettere molto in piazza ciò che pensi ciò che fa un altro tema che mi sembra che emerga qui insomma sia importante da dirsi è la questione della professionalizzazione cioè il lavoro quello che tu hai raccontato necessita se parliamo di procedimento amministrativo che il terzo settore studi cose che in genere magari non studia perché pensa che ci pensi la PA e la PA restudi cose che aveva studiato ma magari si è dimenticata oppure qualcuno di noi io per primo per esempio quando ero più su pezzi burocratici conoscevo di più poi mi sono buttato più su livelli di tentativi di progettazione sociale mi dimentico certe parti invece tu ci sfidi a rimettere insieme perché effettivamente io spesse volte mi sono detto nei piani di zona si fanno i tavoli si fanno i raccordi la maggior ragione poi quando tu dice ampiamo rispetto ai piani di zona ma quella cosa lì è coprogettazione intesa come al di là dei motivi di fondo che ci fanno sedere degli obiettivi per cui Gian Antonio ci portiamo a casa o meno il lavoro eccetera però anche lo scheletro giuridico e formale che rende sostenibile però al di là di quello rende poi chiare le relazioni i rapporti e gli obiettivi che si possono raggiungere quindi c'è un problema di professionalizzazione anche perché poi ci tocca ed era un po' il commento credo dell'amiche collega Barbara che ha fatto poco fa ci tocca avere a che fare con una serie di funzionari anche in posizioni di potere che anche loro come noi si sono fermati ad alcune cose e non sono andati oltre per cui tu trovi quello che ti dice no però io la sentenza non l'ho letta e quindi per me comunque la coprogettazione non si fa fai la parte adesso la banalizzo però per intenderci quindi questa è ancora una sfida ulteriore nel provare a diventare gli stessi più solidi per poter reagire all'interno all'esterno e poi fare quella cosa che però chi si occupa di questo settore si racconta da tanti anni cioè confrontarsi per provare a far emergere insieme delle soluzioni grazie starei ore e ore vediamo se quest'ultima suggestione di Antonio ci vale come conclusione di oggi e come trailer per la prossima puntata io giro l'argomento di Antonio a mio modo noi come dire abbiamo un'alternativa di vita o come dire sopravvivere o vivere no sopravvivere e se tu vedi nella norma l'obbligo e quindi la tempimenta ad un obbligo nella norma il rischio e lo schivare il rischio nella norma un mero facere formale e tutto sommato mi porta a casa la pensione sia come cooperatore come terziotore come amministratore senza aver fatto danni ho portato a casa il mio stipendio virgolettato sono arrivato ad una mia sopravvivenza c'è poi una chiave diversa che è di passare dalla sopravvivenza al vivere vivere cioè un codice vivere una razza di una normativa vivere gli strumenti vivere la finalità per cui tutto questo qui questo mondo che ho provato a raccontarvi oggi può creare ecco io credo che forse vale la pena non dico vivere ma chiedersi se questa diversa postura nel fare le cose può darci un tornaconto io anticipo la risposta e sì ma per me sì anche nel fare gli appalti innovativi nel fare concessione fare concessione di servizio sociale fare passare pubblico privato perché sostanzialmente noi mettiamo davanti non l'adempimento formale di una norma ma il fine per il quale utilizziamo lo strumento guardate che è questo centrale per noi cioè se noi vogliamo sopravvivere nell'adempimento di un dovere oppure se vogliamo vivere la nostra funzione se facciamo parte di una pubblica amministrazione articolo 3 è articolo 3,5 del testo 1 degli enti locali cioè io voglio fare il mio mestiere per risolvere i problemi della mia comunità quindi io nel momento in cui risolvo i problemi della mia comunità io sono fiero perché a questo punto abbiamo la valutazione di impatto sociale avremo anche la valutazione di impatto io sono in grado di dire che ho risolto problemi allora guardate che quando tra 5 anni tra 10 anni spero 5 non 10 Antonio noi andremo a mappare valutare misurare problemi risolti e ci da una mano al 21-27 il PNRR perché noi nel giro di pochi anni un po' dovremmo cambiare testa ed è anche quello che il FIS sta cercando di fare al fondo dell'innovazione sociale ecco noi non ci accorgeremo ad un certo punto di quando era il 6 luglio 2021 che noi orienteremo le nostre azioni le nostre attività i nostri doveri i nostri uffici i nostri procedimenti amministrativi a risultati conseguiti o non conseguiti e quindi scopriremo Antonio forse delle nuove forme di depressione cioè di emotività negativi cioè che abbiamo lavorato per risolvere un problema e non l'abbiamo risolto non l'abbiamo risolto effettivamente però voglio stare in questo mondo no? voglio stare in questo mondo in cui semmai celebreremo l'insoddisfazione di non essere riusciti a risolvere quel problema i cui indicatori noi abbiamo predeterminate ex ante tra pochi anni noi cambieremo mentalità di questo però dobbiamo convincerci velocemente questo sarà colpevole cioè non rendersi conto che a livello europeo che hanno un approccio normativo sostanziale le cose stanno cambiando velocissimamente alla velocità della luce se noi questo non lo capiremo caro Antonio falliremo come individui ognuno sul lato della sua responsabilità perché guardate che quando noi cambiano delle normative 21-27 tu hai dei fondi che per sette anni ti costringeranno a progettare in un modo ad attuare in un modo e a rendi contare conseguentemente o ci sei o non ci sei quindi velocissimamente prendiamo queste fatiche di giornate come oggi per metterci in connessione ad un cambiamento che è in atto 2021 è l'anno del piano di azione sociale si sta facendo l'Europa nel sociale come sarà non lo so ma si sta facendo un'Europa nel sociale quindi non abbiamo paura del cambiamento il cambiamento fa bene come quando ci tiriamo il sangue ci ossigena ossigenandoci siamo un pezzettino più nuovi più vivi vivere o sopravvivere io sono per vivere quindi con questo slogan molto elevato ovviamente potremmo citare Vasco Rossi o Liga Bue però scusatemi abbiamo bisogno di un po' di una scossa e non vivere le norme gli adempimenti io sono fatto così io io non penso neppure Antonio di sapere dico solo che voglio vivere così perché lo sento più naturale quindi oggi è stato solo un onore un piacere stare con voi e vi ringrazio davvero di cuore intenso Luciano intenso grazie buona serata a voi a settimana prossima davvero un grande piacere grazie buona sera grazie